Di Filippo, Crispino, Russo, Russo Gennaro assente, Marciano Pietropaolo assente, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Berrone Gianluigi, Dinardo Eleodoro, Bufano Bruno, Ramondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola, Abate Agostino, Esca Mario e Adamo Coppola. Prima di iniziare questa seduta, co-presidente del Consiglio volevo ricordare un amico di tutti noi che ci ha lasciato per la prima volta dopo questo Consiglio Comunale che viene, l'ingegnere Mauro Inverso. È doveroso per tutti ricordarlo, lui è stato un protagonista di quest'Aula Consiliare per circa 20 anni. Dal 1997 che ha rivestito la carica di consigliere comunale, rivestito la carica da assessore di questo comune, ha rivestito la carica poi di vice sindaco nel primo governo Alfieri. Io ci devo particolarmente ricordarlo perché veramente è stata una figura storica e importante di questa nostra città. È da 20 anni che veniva sempre eletto e dobbiamo dire che sempre è stato voluto dai cittadini agropolesi e che soltanto nel 2016 si è andato soltanto perché da questo Consiglio Comunale, perché voleva servire il proprio paese d'origine, Piano Vetrale, dove è stato sindaco per altri cinque anni. Io voglio dire questo, lui ha rappresentato veramente e ha portato come grande insegnamento l'umanità della politica. Che cosa vuole dire questo? Vuole dire che in un momento storico particolare in cui c'è uno scontro tra tutti, lui ha sempre posto l'essere umano, la persona, l'amicizia, il rapporto al di là della politica. Lui era un amico di tutti, al di là del colore politico e al di là dell'estrazione sociale. Parlava con tutti, aveva un dialogo con tutti e a tutti riusciva a dare una parola di conforto e di altruismo. E ne è testimonianza, se permettete, la folla che c'è stata al suo funerale per l'ultimo saluto. E c'era gente di tutte le stazioni sociali ed era gente che praticamente era commossa, al di là del rapporto che aveva con lui. Quello di cui sono rimasto particolarmente colpito, ecco, l'umanità della politica, è che sia Frank Alfieri, che è stato suo sindaco quando lui è stato vice sindaco, e sia Apolito, che forse voi non conoscete, che è stata la sua vice sindaco al Cuneo di Orria, piangevano. Quindi questo che significa? Significa che l'essere umano è posto al di là di quello che è l'essere politico. Quindi quello che è insegnamento è che tutti noi dobbiamo avere è questo, umanizzare la politica, umanizzare e quindi stare prima di tutto, tutti quanti uniti, amici, prima di essere politici, dobbiamo essere degli uomini. Poi se permettete un ricordo personale. Io conoscevo Mauro da sempre, siamo andati nello stesso paese, siamo parenti, le nostre famiglie sono state sempre unite. E io stesso, ho questo privilegio di averlo scelto come mio padrino, quando dovevo fare la prima comunione, quindi alla Cresima, giustamente come dicevo, alla Cresima. E per cui io con lui avevo questo rapporto che ci chiamavamo soprattutto solo compare, quindi questo nostro rapporto. E poi un altro ricordo personale che a lui mi lega personalmente è stato che mia madre, dall'ultima votazione che c'è stata, quando io ero candidato a sindaco nel 2016, anche se Claudicante, anche se non stava bene, ha voluto per forza andare alle urne a votarlo, dopo tanto tempo, perché voleva votare il suo, visse già vota a Mauruccio. Quindi ci sono dei ricordi personali che si intrecciano con i ricordi politici e questo è un bene per tutti noi. Quindi io volevo ricordarlo con forza e lasciando stare i ricordi personali, volevo dire alla moglie Maria, ai figli Rocco e Michele, ai fratelli Antonio, Vittorio, alla sorella Carmela, di essere fieri e orgogliosi di aver avuto, come dovremmo essere anche noi come cittadini di Agropoli, come cittadini del Cilento, aver avuto Mauro e seguiamo il suo insegnamento. E chiedo come Presidente del Consiglio, facendo funzioni in questo momento, che la prossima amministrazione comunale, che sarà insediata fra un due o tre mesi, voglia ricordare Mauro dedicandogli un qualcosa di questa città, uno stato e cose. perché se è vero, come diceva Foscolo, che l'uomo non muore se vive nella memoria della gente, è altrettanto vero che chi non l'ha vissuto possa ricordarlo anche tramite dei simili. Grazie. Due minuti di raccoglimento. Grazie. Ora ha chiesto la parola il Sindaco per una comunicazione. Grazie. 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 Dopo il ricordo, ringrazio il Presidente Pesca per il ricordo all'amico Mauro. Non è facile riprendere la discussione dopo il ricordo. sicuramente tutti noi ricorderemo Mauro e sapremo fare tesoro dei suoi insegnamenti. Ho chiesto la parola soltanto per portare a conoscenza il Consiglio Comunale, insomma la cittadinanza, del lavoro che abbiamo cominciato e che stiamo portando avanti per la questione dei rifugiati dell'Ucraina. Anche per avere eventuali consigli da parte dei Consigli Comunali o proposte. Intanto lascio la parola a Sassone D'Arienzo per spiegarvi rapidamente quali sono le iniziative che abbiamo messo in opera, quali sono le prospettive immediate per ciò che possiamo e dobbiamo fare naturalmente perché Agropoli sappiamo un paese accogliente che fa dell'accoglienza un suo riferimento e quindi per questo ci adopereremo per fare il nostro dovere. Quindi lascio la parola a Sassone D'Arienzo. Buonasera a tutti. Proviamo tutti tanto sgomento e dolore per quello che sta accadendo ai nostri fratelli ucraini e siamo qui pronti a manifestare tutta la nostra solidarietà a questo popolo che sta fuggendo da questa azione militare che sta violando il diritto internazionale e sta violando i diritti umani. Qui abbiamo attivato il 9 marzo uno sportello di accoglienza e di orientamento a questi profughi ucraini. È stata effettuata una riunione preliminare ed è stato creato un gruppo organizzativo solidale che ha visto presenti l'ASL, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace perché loro sono avvezzi all'ospitalità dei profughi e le Caritas, le Forze dell'Ordine. Questo sportello prevede innanzitutto la compilazione dei documenti di presenza, di dichiarazione di presenza sul nostro territorio ed è stato molto utile perché queste persone non conoscono nella maniera più assoluta la nostra lingua. Quindi per loro anche compilare un documento sarebbe stato un problema insormontabile. Quindi noi compiliamo questi moduli e io voglio ringraziare queste mediatrici culturali ucraine che a titolo di volontariato si prestano ad aiutare questi loro concittadini. Questo sportello è attivo tre giorni a settimana e avevamo inizialmente considerato di attivarlo presso l'ufficio servizi sociali ma noi non ci aspettavamo tanta affluenza. Purtroppo ad oggi sono arrivate circa 90 persone tra mamme e bambini. Quel che noi abbiamo organizzato attraverso questo gruppo operativo solidale è questo. Quindi compilazione della modulistica presso l'aula consigliare abbiamo dovuto mettere a disposizione l'aula consigliare ripeto dato il numero eccessivo purtroppo di persone ucraine. Viene effettuato uno screening dei bisogni quindi vengono inviati direttamente presso l'ASL. Ringraziamo la dottoressa Marilina Loia che ha messo a disposizione tutto il personale possibile e immaginabile. Quindi dopo aver fatto questo filtro della domanda queste persone vengono inviate direttamente all'ASL dove ricevono tampone, vaccini e visite specialistiche. Viene dato loro un codice e quindi questi minori possono soffrire del pediatra da lunedì al venerdì ed anche del medico di medicina generale per gli adulti. Dopodiché si attivano le azioni di volontariato da parte della protezione civile della Croce Rossa i quali oltre ad essere presenti qui insieme ad alcuni membri dell'associazione carabinieri in pensione quindi sono qui e aiutano queste mediatrici culturali si adoperano ad accompagnarli presso l'ASL a consegnare pacchi alimentari sia da parte della Caritas che da parte diciamo della Croce Rossa e altre persone che generosamente stanno offrendo come sempre perché il nostro è un territorio molto solidale noi ancora una volta i cittadini agropolesi hanno dimostrato di non lasciare indietro nessuno e questo secondo me è incomiabile davvero. Abbiamo costituito una banca dati quindi delle scuole che le classi che questi bimbi devono frequentare abbiamo organizzato una riunione con i dirigenti scolastici i primi bimbi li abbiamo inviati presso l'istituto di Prignano perché si è reso disponibile di accompagnarli con lo scuolabus e quindi di somministrare loro anche dei pasti stiamo stiamo collaborando con anche altri comuni dell'Unione e questo ci gratifica perché c'è proprio uno scambio insomma ci stanno aiutando a sistemare tutte queste persone e l'altro giorno è uscita un'ordinanza il 16 precisamente l'ordinanza numero 2 della regione campania che ci dava delle indicazioni per quanto riguarda le categorie di albergatori che possono stipulare in una convenzione con la regione però poi il prefetto visto che siamo nell'immediata purtroppo nell'immediata allucinante azione militare quindi nulla poteva essere previsto quindi man mano stanno conoscendo linee guida infatti proprio ieri il prefetto ha inviato al sindaco dei documenti che gli uffici stanno studiando quindi pian piano riusciremo sicuramente a prendere delle decisioni importanti al momento noi tutta l'amministrazione ringrazia la grande solidarietà dei cittadini che si sono resi disponibili all'ospitalità di queste mamme e questi bambini che credetemi vengono qui e sono completamente disorientati non hanno proprio nulla io quello che ci tengo a precisare tutte le azioni che ha svolto la nostra amministrazione e che svolgerà sono assolutamente a titolo di volontariato quindi a titolo gratuito e di questo io ringrazio tutti completo grazie alla sorella rienzo per l'impegno come diceva ci sono delle misure che sono state messe in atto da parte della regione campania e stiamo ragionando con la prefettura sull'ipotesi di costruire sul modello di risprar dei luoghi di accoglienza in città questo dobbiamo però raggiornare un attimo perché la convenzione ripeto ipotetica è arrivata diciamo ieri ieri quindi gli uffici la stanno valutando e comunque ne discuteremo insomma su come trovare la possibilità di accoglienza atteso che si segnalano la possibilità di ulteriori arrivi insomma di profughi in completo dicendo che in questi giorni anche sulla stampa e sulle comunicazioni di alcuni consiglieri comunali si è parlato anche fermo restando l'ulteriore nota stampa che il campione ucraino andriscia faccengo ha fatto da firenze sulle ipotesi di contattarlo per conferire la cittadinanza ronaria noi abbiamo stiamo lavorando su questa ipotesi già da tempo abbiamo sentito già nel periodo estivo il riferimento del campione ucraino che sapete è stato ad agropoli per la prima volta da giovane lasciando per la prima volta il proprio paese allora l'unione sovietica per venire in italia quindi è stato il primo paese che ha incontrato nella sua lunga carriera calcistica e ha ricordato sia l'intervista alla gazzetta ma poi ripetendosi a firenze ultimamente quando è stato invitato proprio per discutere del dramma del suo paese ancora una volta la nostra città ripeto noi già l'avevamo sentito nel periodo estivo ma allora poi accettò la sfida a suo tempo del commissario tecnico della nazionale ucraina quindi non ci fu la possibilità di combinare un appuntamento grazie poi alla disponibilità del calciatore agropoleso Guglielmo Stendardo l'abbiamo risentito fino anche stamani per ipotizzare atteso che noi abbiamo la possibilità insomma di fargli vivere e rivivere la storia della della tornata nazionale di calcio per la prossima Pasqua e quindi avevamo immaginato di invitarlo l'abbiamo sentito per questo proprio alla manifestazione che stiamo organizzando come ogni anno atteso che la pandemia ci ha lasciato un po' a sua stretta per la prossima Pasqua Stendardo stamattina l'ha sentito probabilmente ci risentiremo nella tarda serata per avere una sua disponibilità in questa fase lui è a Londra a Shevchenko e si sta impegnando molto per la tragedia del suo paese e svolge nel suo ruolo diciamo di immagine naturalmente internazionale anche un ruolo di mediazione importante con tra il suo paese e diciamo la Russia quindi sta cercando per quelle che sono sue possibilità di lavorare al fine di come tanti stanno facendo per far finire questa terribile tragedia può essere pure che durante questo consiglio se dovesse capitare mi scuserete ci chiamerà per darci eventualmente la sua disponibilità atteso che ripeto un momento particolare lui si sta muovendo in tutta Europa proprio per cercare di essere disponibile a servizio del suo paese quindi ringrazio i consiglieri che hanno voluto proporre insomma questa idea che è assolutamente condivisibile ripeto già da tempo ci stavamo lavorando e credo che insieme se ci dà la disponibilità immagino tutti quanti concorderete nella volontà insomma di destinargli a questa importante onoreficenza se ripeto durante l'autorato del consiglio appena possibile avrò notizia certamente ve lo comunicherò per intanto vi ringrazio sul punto va bene prego prego consigliere Buttigli buonasera a tutti consiglieri sindaco vicepresidente e assessori allora anch'io ho abbozzato diciamo una richiesta anche perché diciamo il calciatore scerchenco diciamo l'ho anche un po adottato io perché mio figlio da milanista gli anni 90 il 99 andò a giocare nel milano e quindi avevo la casa tappezzata di del giocatore scerchenco poi io ho letto da varie da varie testate scerchenco ha rilasciato una lunga intervista a un canale sportivo lui è contro questa guerra crudele e dice è difficile vedere la mia città distrutta bambini che muoiono e per me insopportabile lui ha quattro figli vive a londra e sta cercando di portare 150 persone dalla zona di guerra a londra bambini li porta a casa sua quindi oltre ad aver stanziato danaro quindi è un ragazzo che merita ecco perché io ho abbozzato una richiesta dove la deposito agli atti per la cittadinanza onoraria a un grande signore che non fa chiacchiere però ammette denaro fa fatti cioè nel senso che questa guerra effettivamente ha 42 milioni di persone che si alzano una mattina e vedono sganciare bombe sul proprio paese effettivamente è una tragedia immane quindi penso che ognuno di noi si deve caricare ogni comune penso che dovrebbe spero che anche il nostro comune avrà stanziato una cifra qualcosa da almeno offrirgli un pasto caldo offrirgli le cose necessarie e penso che il sindaco non si sia tirato indietro io adesso deposito agli atti questo documento e speriamo che il giocatore questo grande giocatore Andrin Scherchenko sia in mezzo a noi al più presto perché veramente è un uomo di grandi valori umani doti umani quindi io adesso la la do al segretario va bene se non ci sono altri interventi passiamo al primo punto all'ordine del giorno interrogazione interpellante il consigliere Giuseppina Botticchi al sindaco sullo stato in cui versa la S.P. 184-39 è anche un po' imbarazzante perché io questa interrogazione forse la quarta e la quinta volta però vede sindaco è la gente che me lo chiede io alla fine sono un portavoce nient'altro posso solo portare le problematiche quelle reali quelle che il paese vive e subisce la S.P. 184 che collega Trendova il centro abitato alla zona portuale è un'arteria diciamo di estrema importanza la gente sono anni oramai che quei blocchi di cemento quel fango per strade che adesso addirittura è cresciuta l'erba la carreggiata non si delinea bene più diciamo che quella strada è la situazione è grave si aggrava sempre di più adesso viene l'estate non piove le piogge saranno diminuite quindi però è proprio per un fatto di immagine per il turismo comunque si deve allentare la presa del covid il turismo dovrebbe aumentare e quella strada a noi serve passano i mezzi pesanti e lì c'è il rimessaggio delle barche le barche vanno via a fine estate poi ritornano e quindi quella strada è di estrema importanza lei dirà sì ma è la provincia però non dobbiamo fare questo gioco comune provincia perché la provincia sembrerebbe che ha detto se lei ha messo quei massi di cemento tempo addietro vuol dire che può fare anche altre riparazioni non ci sono soldi ma sindaco ma mica quella è una lacia adesso proprio una somma urgenza cioè quel lavoro lì va fatto ci vogliono 10 milioni di euro per me non ce ne voglio perché togliere quel fango da quella strada e fare cioè marginalmente voglio dire nei limiti delle migliorie si possono portare allora risparmiamo su altre cose ma la viabilità per un turismo buono ci deve essere perché il fiore all'occhiello del turismo e poi il servizio che sta togliendo cioè mu passano i mezzi pesanti trasporto barche come ci devono passare che il fango è arrivato al centro della carreggiata vediamo un po di su non è che io oggi è un attacco alla maggioranza non è un attacco alla maggioranza è un attacco a chi non fa le cose come le deve fare quella strada va sistemata i soldi si devono trovare cioè facciamo il piano triennale facciamo i lavori facciamo qua però poi non siamo capaci neanche di fare una riparazione e questo è il problema quindi io forse la quarta volta non lo so però mi vergogno anch'io eh grazie prego sindaco se vuoi rispondere ne ha facoltà abbiamo discusso come ricordavo lo stesso consigliere botticchio già della questione della strada provinciale e di collegamento con il porto che come giustamente le ricordava è assolutamente strategica per la funzionalità del porto stesso e proprio per questo motivo voglio ricordare che il comune decise di fare quell'intervento perché la strada era chiusa risultava chiusa e in prossimità dell'estate quell'intervento straordinario consentito la riapertura della stessa quindi comune è intervenuto a prescindere proprio per dare la possibilità di riaprire quella arteria di collegamento. Come però ho già detto e ribadisco la provincia di Salerno ha preso atto del problema e è inserito questo intervento nel piano straordinario di pattenzione delle strade provinciali a sua volta sull'ultimo quando abbiamo discusso nell'ultima interrogazione doveva essere fatta la gara ora è stata completata e questo intervento è inserito in un gruppo di interventi per di 500 mila euro ed è un piano che comincerà prima dell'estate noi abbiamo chiesto in questo periodo che noi ci siamo sentiti dall'ultimo consiglio comunale che fosse il primo intervento a essere messo in opera da parte della provincia ottenendo naturalmente un riscontro positivo attesa l'importanza il rischio che comunque si ha e quindi come ho detto allora ribadisco l'intervento è stato finanziato e doveva essere soltanto candierizzato. Nella lettera che abbiamo agli atti si parla che l'intervento verrà fatto comunque nell'anno quindi in quest'anno però abbiamo chiesto che venga fatto prima dell'estate e dall'interlocuzione con il dottor Ranisi della provincia ci ha rassicurato che questo verrà messo come priorità di intervento quindi l'augurio che ci facciamo insomma che la parola venga mantenuta che prima dell'estate l'intervento venga fatto quindi ora non è più un problema di finanziamento di opere è solo un problema di accelerare la burocrazia in provincia e di fare in modo che più rapidamente possibile questo venga messo in opera. Grazie Sindaco. Prego, prego. Ma più che altro una richiesta di spiegazioni se il Sindaco ne ha conoscenza. Sindaco l'altro giorno a trasera, domenica, facendo una passeggiata per via De Gasperi ho visto acqua abbondante che usciva da una condotta di supero sul fiume Testena. Il giorno dopo sono stato chiamato dalla dottoressa Serra che mi diceva che addirittura forse aveva fatto un articolo sul giornale e poi non ho letto l'articolo sul giornale. Volevo sapere se lei sa effettivamente per quale motivo nonostante le piogge erano assenti da una settimana questo tubo abbondantemente metteva acqua nel fiume Testena. Se ne sa qualcosa, se non dovesse saperne qualcosa si documenti e mi faccia sapere perché è una cosa importante. Mi sembrava acqua pulita, non acqua di fogna, però onestamente era abbondante, quindi non capisco perché. Grazie. Allora, non sapevo di questa cosa, così se due piedi mi viene da rispondere che probabilmente è una rottura dell'impianto Asis dell'acquedotto, dovrebbe essere questo. Lei ha notizia se poi potrebbe essere Sindaco, però ci sta un'immissione in un canale che una volta era un canale di supero della fogna bianca. Si ricorda, prima noi avevamo le fogne miste, quando l'acqua era abbondante e piovane ci stava una zona di supero per cui a quel punto andava in questo canale. L'altra sera usciva acqua da questo tubo, quindi a meno che l'Asis non abbia una pompa praticamente diciamo di aspirazione che lascia aria, che nel momento in cui dovesse essere spurgata emette acqua e quindi viene immessa proprio in quella condotta. Potrebbe essere, però onestamente se ne accerti perché potrebbe essere un'altra cosa che poi inguinante, perché sui giornali forse si diceva inguinante, ma onestamente non è sembrato inguinante, però l'acqua c'era. Se abbiamo un momento libero durante questo Consiglio io cercherò di sedere gli uffici e vi aggiorno subito. C'è una replica della consigliera Botticchi sull'argomento di prima, allora basta al secondo punto dell'ordine del giorno. Prego, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare una comunicazione in base all'articolo 166 del testo unico, mi preme portare a conoscenza di questo Consiglio comunale che in vingenza di esercizio provvisorio, quindi in attesa di approvazione del bilancio di previsione, dal primo gennaio ad oggi, con diverse delibere di giunta comunale, sono stati eseguiti e effettuati dei prelivi dal fondo di riserva. E precisamente con la delibera numero 22 del 10 febbraio 2022 dal fondo di riserva è stato, su richiesta del responsabile ufficio contenzioso, è stato impinguato il capitolo 200 per poter effettuare dei conferimenti a incariche legali per la difesa dell'ente dell'imposto di euro 15.896,18. Con un ulteriore delibera di giunta comunale numero 60 del 4 marzo 2022 è stato eseguito un ulteriore prelievo sempre su richiesta da parte del responsabile del servizio finanziario per impinguare il capitolo 200 di euro 2.283,84. Con delibera numero 61 del 4 marzo 2022, su richiesta del responsabile all'area lavori pubblici, un prelevo dell'importo di euro 13.000 per impinguare il capitolo 2.103, impianti sportivi. E ultimo, delibera di giunta comunale numero 67 dell'11 marzo, sempre su richiesta da parte del responsabile servizio finanziario per implementare il capitolo 200 per il conferimento di incariche legali, l'importo di euro 9.679,98. Ricordo che di questo non è stato tenuto conto durante poi la redazione definitiva del bilancio di previsione. Grazie. Grazie a lei. Assessore, partiamo quindi dal secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione della seduta dell'8 febbraio 2022. interventi? Chi è favore della proposta? Alzi la mano a loro. Benani? Benani? Benani. Benani? Benani. San Barota? Assenuto. Assenuto. Quindi passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Lì siamo del Presidente del Consiglio Comunale. Relazione al Sindaco. Sì, abbiamo, come ricordate, rimandato l'argomento del scorso Consiglio Comunale per poter fare una riflessione e passare alla nomina del Presidente per questo scorcio di fine mandato. Io ho sentito le forze politiche del Consiglio Comunale e credo di aver ricevuto, me ne darete conferma la possibilità di proporre un nome che in qualche modo possa essere votato in maniera unanime perché sarebbe, come dire, auspicabile, come si cerca di fare in questi casi, di avere comunque una votazione per il Presidente del Consiglio che comunque ha un ruolo di terza età nel sforzamento del Consiglio stesso, un voto di unanimità in modo tale che sia riconosciuto da entrambi, diciamo, gli schieramenti nel Consiglio e in qualche modo possa essere gli stessi garanti di tutti gli schieramenti. Quindi mi sono interfacciato con i gruppi consigliari e credo di essere riuscito a ottenere questa possibile unanimità. Se questo è, se viene confermato, insomma, noi possiamo anche evitare la votazione segreta, come si fa nel caso di votazioni che riguardano le persone e magari procedere con una votazione a voto palese. Non so se il segretario richiede che venga prima fatto questo passaggio. No, il discorso è questo. Lo Statuto del Comune di Agroprevede la votazione palese, non prevede la votazione segreta. Ok, allora si procede. Allora posso a questo punto proporre direttamente il nome del candidato che se l'Aula del Consiglio è d'accordo nella persona del Consigliere Giuseppe Cammarota. Chiedo gli interventi? Faccio prima l'intervento del Consigliere Cammarota che si è chiamato direttamente in caso. Io volevo solo preannunciare il mio, ovviamente, non voterò, mi asterrò, in quanto sono lusingato e onorato della nomina, sindaco e senato destinatario della proposta, solo per deontologia mi asterrò dalla votazione. Gli altri interventi? Sì. Ok, bottiglio. Io credo che il Vice Presidente Mario Pesca il lavoro lo fa bene, anzi rinuncia anche al compenso, mancano due mesi, tutto il rispetto per Cammarota, però il mio voto, cioè voglio dire, occuparsi, abbiamo la guerra, abbiamo il virus, il coronavirus, cioè occuparsi di un cambio di poltrone, non mi sembra onorabile per la città, Mario lo gestiva bene il suo ruolo, e ne pepe è solo, come si dice, un lavoro in più, no? Non penso che lo accetti, sei gratificato, dopo cinque anni di lavoro, che ti sei ammazzato per la città, voglio dire, tutto il bene che hai portato alla comunità, a me devi prendere un altro impegno, lo dico per te, eh, non per me. Mario è così, quindi io, non è che il mio voto è contrario, perché sono contro la persona, eh, attenzione, è perché lo ritengo inutile, è una votazione inutile, quindi ritengo che tutti quanti dovrebbero proprio ritirare l'argomento, perché mancano 60 giorni e resta Mario, eh, perché Mario rifiute il compenso e lavora bene, quindi noi dobbiamo cercare anche i risparmi per l'ente, poi non lo so se Peppa avrebbe fatto la stessa cosa, quindi il mio voto è, non è contrario, è a favore a Mario, io voto Mario Pesca, va bene? Grazie. Io invece, contrariamente a quanto detto adesso dal consigliere Botticchio, vedo in modo corretto proposta la questione, perché io amo il rispetto delle regole e amo quindi il rispetto, diciamo, istituzionale di tutti quelli che sono i regolamenti, quindi bene avete fatto, anzi avete fatto un poco tardi addirittura, a proporre la nomina del Presidente del Consiglio. Male sarebbe se avessimo proposto invece il consigliere Mario Pesca, a cui va tutto il mio rispetto come uomo e come professionista, ma chiaramente in questo caso si sarebbe trattato, per quello che so io dalle ultime notizie di giornale, si sarebbe trattato di santificare un accordo politico e non l'avrei nemmeno santificato, quindi lo dico in modo molto corretto. Invece, bene avete fatto, è prassi in quest'Aula da ormai da un decennio che il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Presidente del Consiglio Comunale viene eletto in modo unanime per alzata di mano, indipendentemente da ciò che prevedeva lo Statuto, ma all'unanimità per consentire quindi alla maggioranza giustamente di esprimere i propri rappresentanti. Quello che è importante è che poi il rappresentante che rappresenterà poi l'intero contesto consigliare sia veramente terzo, forte e deciso, questo è un altro aspetto. E quindi di conseguenza avete fatto benissimo accordo in pieno con la scelta effettuata e quindi di conseguenza sono favorevole al nome proposto. Grazie a voi. Devo rispondere però al consigliere Abbato. Allora accordi politici sono quattro anni, non ne sono stati mai fatti da parte mia, restava Mario Pesca perché io ne faccio un fatto economico e dell'ente perché Mario non percepisce compenso. A due mesi delle elezioni penso che l'impegno va su altro, va su una comunità abbandonata, una città all'abbandono, va sulle strade, sulla viabilità, sul centro storico e non scambio di poltrone. Poltrone, smettetela questo scambio di poltrone, fate bravi. Altri interventi? Sì, se vorrei intervenire. Pregherei il consigliere Botticchio di ascoltare attentamente ciò che dice una persona perché evidentemente lei non ha compreso ciò che ho detto io. Poi si risentirà la registrazione e farà le sue riflessioni sulla dichiarazione che ha fatto testè, non ho altro. Buonasera a tutti, il gruppo Agropoli Oltre è d'accordo sulla nomina del Presidente del Consiglio nella persona dell'Avvocato Cammarotta. E auguro buon lavoro. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? naturalmente io credo che la maggioranza, grazie per le parole, così da Botticchio, debba esprimere un loro candidato alla Presidenza visto che c'è questa prassi che la maggioranza vota il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Presidente del Consiglio Comunale viene votato nella minoranza. Quindi io sono stato eletto naturalmente e sono entrato in questo Consiglio Comunale come minoranza e quindi voglio dire, la maggioranza non aveva nulla da dover dare a me come votazione e come Presidente di questo Consiglio. Per una mia... gli aiuti ne comprovi tutti quanti voi, eh? Non per Cammarotta. Faccio la stessa scelta che diceva il Consiglio di Cammarotta. Mi astengo dalla votazione perché tutti voi siete stati nei miei confronti anche benevoli nel votarmi come Vice Presidente del Consiglio e quindi anche io mi astengo da questa votazione. Voglio soltanto precisare una cosa, visto che si parlava di convenzi, io volevo lanciare una proposta a tutti voi e a tutti noi. Mi volevo congratulare con l'assessore per quanto riguarda l'Ucraina. Allora facciamo una cosa però, facciamo anche un gesto noi stessi, tutti noi, che è quello di donare quantomeno una parte della metà di quello che prendiamo come compenso in questo Consiglio Comunale per la causa dell'Ucraina. A tutto o quantomeno chi pratica la metà di queste somme per questa causa giusta dell'Ucraina. Oggi noi viviamo, sembra che viviamo esternamente quello che sta succedendo. L'Ucraina siamo noi stessi, se ci sentiamo tutti noi anche ucraini, vediamo che possiamo dare qualcosa in più. Allora quella che è la mia proposta, che se dovesse esserci dei compensi per quanto riguarda questi due mesi del mio mandato, io sono disponibile a cederli per quanto riguarda questa causa e io chiedo a tutti quanti, assessori, consiglieri e tutti coloro che prendono qualcosa da questo Comune, di donare una parte di queste somme per quel fondo. Grazie. Mario, ma il mio voto l'hai avuto tu perché l'opposizione, l'opposizione non poteva mai votare la maggioranza, io ho votato te perché sei espressione della minoranza, quindi è stato il mio voto coerente, coerente al massimo e ringrazio le tue parole e quello che hai proposto, quindi mi trovi concordio. Va bene? Grazie. Se ci sono altri interventi, possiamo passare alle votazioni. Sulla proposta del sindaco, chi è favorevole a vedere come presidente il consigliere Cammarota? Chi è contrario? Botticchio. Mario Pesca e Cammarota. Quindi dichiariamo praticamente l'immediato esecutività. Due terzi del... no, lo vogliamo sull'approvazione della votazione. Sì, allora, ci sono i due terzi, ci sono se non sbaglio, no? Sono due terzi della... quanti sono? Uno, due, tre, quanti sono? Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, ci sono tredici. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, col sindaco. Tredici voti sono, quindi, rappresentano il 75% dell'aula consigliare, quindi si può... Sì, tredici. Tredici, tredici, però siamo nel 75% come prima votazione. Con tredici voti puoi programmare elettro? Allora, con tredici voti, quindi, programma elettro, presidente del consiglio, il consigliere Cammarota. Allora, adesso votiamo sull'immediata esecutività, sulla ratifica della votazione prima. Chi è favorito della ratifica di questa votazione? Siamo tutti ratifiche. Sulla ratifica. Sulla, sull'immediata esecutività. Votocchio che vota? No, no, Votocchio... Sì. Ok. Quindi, adesso io vi saluto, vi ringrazio veramente per essere stato con voi come presidente in queste due sedute. E do la parola e lascio la presidenza del consiglio, al consiglio del Cammarota, a cui faccio i miei migliori auguri e complimenti. Grazie. Buonasera a tutti. Io avevo preparato degli appunti perché questi sono momenti in cui l'emozione potrebbe tirare brutti scherzi. Quindi mi sono appuntato qualcosa in modo da non dimenticare nulla. Volevo ringraziare prima di tutto il sindaco e tutta la maggioranza per aver dato fiducia alla mia persona. Ma un ringraziamento particolare soprattutto va alle minoranze che hanno condiviso questa proposta. Non era certamente una cosa scontata. Quindi grazie. Grazie di nuovo. Ritornando sul ruolo di presidente del consiglio comunale del Comune di Agropoli, che mi viene affidato, pur essendo questa una presidenza di brevissima durata, vista la prossima tornata elettorale, sento tuttavia il dovere di una riflessione personale. Mi sento molto emozionato e gratificato e onorato di ricoprire questo ruolo di presidente del consiglio della città di Agropoli, la città che appunto mi ha dato i Natali e che ci vivo da sempre. Mi si è consentito però un pensiero a chi mi ha preceduto in questo ruolo e a tutti i presidenti che in quest'Aula hanno contribuito alla crescita politica, sociale e democratica della nostra città, con passione e abnegazione, lasciando una grande eredità e da cui spero di riuscire a trarre insegnamento e spunti di riflessione per un migliore espletamento di questo incarico. Mi scuso sin da ora con tutti se ci saranno delle eventuali sbavature nella conduzione dei lavori del consiglio, ma garantirò il massimo impegno nell'assumere il ruolo di presidente del consiglio, con onestà intellettuale, trasparenza, terzietà, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto per tutti, sempre e soltanto per il bene comune della città che tutti insieme oggi amministriamo. In conclusione, io mi sento di rivolgere un invito a tutto il consiglio comunale, nel rispetto del delicato momento storico che stiamo attraversando, e mi riferisco in particolare al conflitto in atto tra Russia ed Ucraina, con tutte le sofferenze umane, economiche, politiche e sociali che ne derivano e che stanno segnando profondamente le vite di tutti noi. rivolgiamo anzitutto un pensiero alle vittime di questa guerra, in particolar modo ai bambini, ed un appello ai partecipanti affinché si mantenga un comportamento misurato e rispettoso, nei modi e nei toni, nello svolgimento del consiglio comunale. Grazie. Possiamo continuare con gli argomenti all'ordine del giorno, passiamo al punto 4, approvazione del regolamento per l'utilizzo del cineteatro di Filippo di Agropoli, relazione al sindaco. Sì, lascio la parola al consigliere Crespino che in qualche modo ha elaborato il regolamento e l'ha portato nella Commissione, quindi per una prima introduzione, poi se ci sono dubbi o perplessità siamo a disposizione. Buonasera, consentitemi in apertura di ringraziare sentitamente il collega consigliere Mario Pesca per il lavoro che ha svolto in questi due mesi. Mi associo al pensiero veramente commovente dell'amico Mauro Inverso. Vorrei ricordare però anche altri due amministratori che in questi mesi ci hanno lasciato, che mi pare non siano mai stati ricordati in questa assise, Armando Bonora e Giuseppe Niglio. Giuseppe Niglio, forse io penso di essere, forse insieme a Salvatore sicuramente lo ricorderà, un vecchio amministratore, assessore qui del Comune di Agropoli. Ovviamente mi corre l'obbligo anche di formulare il buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio. Contrariamente a quanto si può pensare è il nostro consesso, un consesso molto qualificato, perché vede ben alle mie spalle due precedenti Presidenti del Consiglio. Quindi sono certo che, come hai giustamente detto nel tuo intervento, trarrai spunto e emulazione dal lavoro svolto da chi ti ha preceduto nel ruolo di terzietà. Comunque detto questo, molto velocemente, essendo ritornato nel piena disponibilità del Comune di Agropoli, il Cineteatro Edoardo De Filippo, e nell'emore della Costituzione di una fondazione che possa poi gestirlo operativamente, si è ritenuto necessario redigere un regolamento per la corretta fruizione. Il regolamento è stato licenziato all'unanimità da una Commissione congiunta Regolamento e Cultura e gode anche, ovviamente, necessariamente del parere favorevole del collegio sindacale. Consta di 16 articoli e mi voglio affermare soltanto su un aspetto particolare a cui abbiamo tenuto, nella fruizione da parte delle associazioni, o, in particolar modo, di associazioni del terzo settore, la possibilità di poter fruire di un'agevolazione importante rispetto alle tariffe, ovviamente, che spetta determinare annualmente all'aggiunta. Mi riferisco ad associazioni iscritte all'albo dei fornitori, all'albo delle associazioni qui del Comune, ovviamente, un regolamento che abbiamo approvato già nei mesi scorsi e alle associazioni del terzo settore godranno di una percentuale intorno al 30% di sconto rispetto alle tariffe determinate dalla Giunta, come vi dicevo. Pertanto vi chiedo l'approvazione dello stesso. Ci sono interventi? Il Consigliere la porta, prego. Consigliere Crispino, complimenti per il lavoro che ha svolto insieme alla Commissione, però devo fargli dei rilievi. Nelle premesse ci sta, signor Sindaco, la delibera numero 9 del febbraio del 2021, dove si dava mandato all'aggiunta di redigere un progetto, il quale progetto non è mai arrivato in questa assise. È agli atti da qualche parte o non è stato redatto, signor Sindaco? Mi può rispondere? Un bel intervento e poi... Bene. Allora, se si può puntare, se mi può rispondere relativamente all'atto fatto dal Consiglio Comunale con delibera numero 9 del 23 febbraio, è stato dato mandato all'aggiunta comunale con il supporto degli uffici competenti, presumo del Dottor Capozzolo che è l'area turismo, di avviare un'analisi tesa a definire una proposta operativa per garantire la gestione a partire dal 2021. Questa progettazione credo che non è mai arrivata a conoscenza di noi consiglieri. Un ulteriore appunto che faccio e ritengo che sia fondamentale è quello che nel momento che si considera il decreto legge 139, consigliere Crispino, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, mi deve spiegare come facciamo a gestire il protocollo che non viene riportato nel regolamento della presenza nell'infrastruttura di un altro soggetto. Il regolamento non è tratta in nessun articolo, se non erro, della presenza di un soggetto terzo. Se posso avere i chiarimenti in merito, perché credo che sia fondamentale nella gestione del regolamento. Mi può rispondere? Si può essere più chiaro? Allora, se noi vediamo la richiesta di utilizzo del cineteatro, impegniamo i soggetti terzi che chiederanno l'utilizzo dell'infrastruttura e li vingoliamo a degli impegni. I quali impegni noi non gli diciamo che è presente nella struttura un soggetto che fa attività di barra. Come andiamo a gestire questa cosa, Dottor Capozzo? Facciamo un esempio per capire... L'esempio è questo, che qui dentro non vi è traccia di una presenza all'interno dell'infrastruttura. Non so, c'è necessità. Ammettiamo che c'è una richiesta dell'utilizzo del cineteatro. Un'associazione che voglia... Allora, signor Pò, una delle priorità assomute è il rispetto dei protocolli di sicurezza. Nel momento che vi è un'interferenza tra un'attività che opera quotidianamente ed un'attività che si porta a svolgere teatrali, scolastiche, qualsiasi evento, vi è un'interferenza sui piani di sicurezza. Sì, ma il regolamento che ora in approvazione sostanzialmente non fa altro che organizzare la tipologia... Lei vingola il soggetto che gli fa pagare anche giustamente una quota, se ricordo bene, 250 euro, e non lo vingola che deve predisporre un piano di sicurezza condiviso con il soggetto che è presente all'interno. Perché io, associazione, faccio l'istanza in riferimento a questi 16 articoli e non trovo traccia... Ingegnere Marciano, lei fa il responsabile della sicurezza. Mi aiuti a sostenere la tesi. Non abbiamo traccia che nell'infrastruttura vi è un altro soggetto che ha un suo piano di sicurezza, i suoi lavoratori. Come facciamo? Io penso che nel regolamento, in approvazione del Consiglio, si va a determinare la possibilità da parte di associazione o di chiunque di utilizzo del cileteatro. E era giusto dare una modulistica... Ma sicuramente è giusto, signor Presidente. Se posso parlare? Certo. Ho provato tre volte a dire... Sono stato interrotto. Sto dicendo, nel regolamento che è approvato, che proviamo oggi in Consiglio, si stabilisce un percorso per l'associazione o per chiunque, di come richiedere l'utilizzo del cileteatro e quali sono gli impegni e gli oneri che questa associazione deve in qualche modo seguire per l'utilizzo dello stesso. E questo, diciamo, è un regolamento. Poi esiste, come dire, certamente un piano di sicurezza del cileteatro che è già redatto, nel quale si vanno a determinare i flussi di accesso, di uscita, di entrata. Quando noi abbiamo approvato il progetto del cileteatro, quando abbiamo ottenuto da parte della Commissione di Vigilanza il parere, era già previsto sul progetto l'esistenza del bar localizzato all'interno del foyer. E quindi, così come è stato autorizzato l'utilizzo della sala, così è stato autorizzato la sua complessità, l'utilizzo del cileteatro nella sua complessità. Quindi già è stato immaginato nel piano di sicurezza la presenza del bar, la presenza delle entrate e delle uscite degli operatori. Ora non capisco perché se già esiste un piano complessivo è necessario inserirlo anche nel regolamento. Può essere anche messo, ma non lo vedo come elemento essenziale dello stesso, visto che l'obiettivo principale era quello di regolamentare la richiesta di utilizzo dello stesso e non la funzionalità del cileteatro. Nel momento che si rappresenta lo stesso, cioè il cileteatro, chi ne fa richiesta si impegna, qui non c'è nessun impegno e conoscenza di chi fa richiesta di un soggetto terzo all'interno dell'infrastruttura. Se non vuol capire e vuole farci l'esempio della Commissione che quando ha esaminato la struttura vi è anche la struttura a barre, cosa ben diversa dell'interferenza tra due soggetti diversi, questo è il punto che io le sto cercando di sottoporre e che non è presente nella richiesta dei soggetti che si porteranno ad utilizzare il bene. Ho capito. Io ritengo che sia un'omissione grave, se non la sistemiamo, la mia proposta vi invito a ritirare l'argomento, mettere a posto questo problema, nelle premesse della delibera andiamo a riportare la presenza di locazione di parte con una planimetria chiara quale sono le parti in comune e quale sono le parti che sono state date in locazione. Se noi non diamo questa chiarezza coloro che verranno a fare questa richiesta sono convinti di utilizzare tutta la struttura. Sto dando un contributo come sempre, signor Sindaco. Io penso invece che l'accesso come dire il progetto immagina l'organizzazione del Cine del Alto e vengono stabilite delle aree di entrata di ucciso di utilizzo del bar del faiere dei bagni dell'utilizzo della sala e ci sono dei percorsi stabiliti nel piano di sicurezza di come muoversi e dove deve stare cosa. In questo quadro generale abbiamo acquisito tutti i pareri del caso. Oggi quindi chi entra nel Cine del Alto deve attenersi a quelle che sono le indicazioni stabilite nel piano di sicurezza che sono già fissa all'ingresso del Cine del Alto cioè se io sono un utente del Cine del Alto e arrivo devo seguire le indicazioni di entrata di uscita di uscita di sicurezza di utilizzo dei bagni così come previsto dal piano di sicurezza non vedo la necessità di dare un'ottore conoscenza di questo regolamento questa è la mia valutazione. Torno a far capire che vedo che non vuole capire non vuole capire Allora sul capire e non capire questa è una sua osservazione la vuole esprimere però io potrei dire di contro che lei non vuole capire cioè nel senso che io ho dato una spiegazione mi pare concreta di quello che abbiamo detto vuole interprimere il segretario se posso dare un contributo in responsabile noi ne prendiamo altro Allora credo che il consigliere la porta faccia riferimento al famoso Duvri che è il documento unico di valutazione del rischio interferenza ma quello si approva nel momento in cui viene fatta la concessione o l'affidamento perché benissimo un'attività potrebbe andare via domani mattina quindi è inutile prevederlo adesso ma in sede di affidamento nel senso che la stazione appartante tiene conto della situazione di fatto la stazione appartante o il concedente tiene conto della situazione di fatto valuta il rischio interferenza lo mette in un documento che lo approva e costringe diciamo tra virgolette o appunto in sede di concessione va a rappresentare la situazione al concessionario che la deve acquisire come una situazione del momento non una situazione che ex del momento è quella che le sto rappresentando io ma domani mattina potrebbe andare via ma domani mattina è un altro giorno noi dobbiamo parlare del momento ma perché metterla nel regolamento e nel momento io che vengo mi viene assegnata dietro la mia dichiarazione di impegno io la mia dichiarazione è priva della conoscenza ma lì al limite si potrebbe fare riferimento ad un generico d'Uvri che tiene conto dell'interferenza del momento in questo momento quello che mi è stato fornito non vi è a conoscenza dei soggetti affidatari futuri ma non si possono cristallizzare in un regolamento i soggetti affidatari perché gli affidatari sono del momento ma se noi al regolamento alleghiamo un allegato dove ci sta un atto di impegno segretario perché io non gli devo dire che l'infrastruttura vi è un altro soggetto all'interno perché potrebbe non esserci perché domani mattina potrebbe non esserci ma sta scherzando potrebbe non esserci intanto ci sta eh ho capito ma stiamo scherzando mettiamo in un regolamento va bene per quanto ci riguarda se sono queste le ragioni il nostro potere è contato un ulteriore chiarimento mi pare che aveva fatto una richiesta sulla questione gestione cineteatro in generale sulla comunicazione che il consiglio aveva dato all'aggiunta sulla sui provvedimenti da prendere per la gestione si ricorderà il consiglio della porta e più volte abbiamo affrontato in questo consiglio la questione del cineteatro e all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione del scusate del del consuntivo mi pare l'ultimo consuntivo abbiamo anche immaginato no no proprio del bilancio di previsione 2021 abbiamo anche descritto quali erano gli obiettivi che ci una serie di obiettivi che ci proviamo di raggiungere e in particolare gli obiettivi che riguardano la questione del cineteatro e allora con delibera di consiglio che mi pare di ricordare anche lei votò si stabilì proprio questo cioè che l'obiettivo finale era consegnare la gestione del cineteatro ad una fondazione e si dava in carico all'aggiunta di lavorare per la preparazione della fondazione stessa e in attesa che questa fondazione diciamo venisse organizzata votata insomma e messa in noi nella possibilità di operare il comune avviava una gestione diretta che in qualche modo potesse essere anche diciamo precursiva diciamo preparativa dell'arrivo della fondazione stessa e mi pare che stiamo seguendo queste indicazioni ottenendo credo anche dei risultati positivi perché mi pare di aver potuto notare nella fruizione del cineteatro con la gestione diciamo della stagione teatrale che tra l'altro ha avuto come sa grande successo l'ultimo spettacolo di Biagiuizia addirittura ha preso il tutto esaurito quindi come dire in assoluta controtendenza questo spettacolo ma in generale la stagione teatrale per le presenze degli abbonamenti fatti è in assoluta controtendenza con gli altri d'Italia che è assolutamente positiva rispetto al passato invece che è negativa per quel che riguarda la gestione del cinema mi sembra che sia funzionato molto bene e molte sono attività implementate perché non si fa soltanto l'attività cinematografica ma sono altre le tere che sono svolte non ultime tra l'altro hanno avuto molto successo un'attività di cineforum ha collegato con una serie di iniziative di sensibilizzazione su temi sociali molto importanti che hanno avuto molto rilevanza racconto per esempio l'ultimo che è stato fatto in prossimità della festa della donna proprio per ricordare la vittima le donne come vittime di violenza un evento diciamo gestito proprio dal dal comune con queste iniziative assolutamente interessanti e ancora con grande soddisfazione l'impianto del nuovo bar che ha reso ancora più centrale nella vita della città la vita del cineteatro quindi come ci siamo detti quindi in quella deliberata consiglio avviamo diciamo un percorso di gestione della struttura di cineteatro quindi con teatro quindi con bar quindi con gestione del cinema e anche utilizzo da parte delle associazioni locali con spettacoli teatrali gestiti dalle associazioni locali tutto questo è stato mantenuto e questa organizzazione poi verrà consegnata al momento dell'arrivo della fondazione nelle mani della fondazione così come ha deliberato il consiglio comunale per poi proseguire l'attività ci è sembrato quindi anche questo al fine di poter come dire assegnare al futuro rende il gestore il percorso più lineare possibile fare queste prove di comportamento che segnano comunque un effetto positivo e quindi abbiamo tracciato secondo me una linea guida importante che poi la fondazione appena sarà operativa prenderà in adozione atteso che poi sempre il consiglio dovrà dare alla fondazione linee guida per come comportarsi rispetto alla gestione stessa c'è il consigliere la volta signor sindaco come al solito ha fatto il suo racconto che può essere condiviso ai fini sociali di quello che è l'obiettivo che si era detto ricordo bene e l'ho pure votata e la riconfermo quella votazione nel momento che si dava priorità ad aprire la struttura ma nello stesso tempo doveva lavorare un altro tipo di struttura una struttura tecnica che doveva proprio ridigere quel progetto che forse è in testa a lei forse perché vedo che lo racconta bene quello che dovrà essere poi la fondazione ad accogliere il progetto che è soltanto in testa a lei il progetto deve essere scritto possibilmente a più mani essere partecipato a tutti e cerchiamo poi di condividerlo tutti insieme perché l'obiettivo è comune però se lei mi vuole raccontare quello che è stato lo stato emergenziale per far aprire la struttura lo trasformiamo che è un qualcosa che deve andare così sino a quando non si sa ci sarà l'apertura alla fondazione il problema che ho sollevato io è di un'altra natura e vi ribadisco a riflettere su un problema che può sorgere proprio ai fini della sicurezza su qualsiasi incidente che si può verificare proprio perché non vi è chiarezza negli impegni che il soggetto affidatario avrà come come onere ok io ho detto questo ribadisco per queste condizioni come gruppo agropreolti il voto contrario grazie prego consigliere Botticcio scusate si parla tanto è stato fatto il regolamento ma questo cineteatro mi sembra una storia la storia infinita di questo cineteatro prima c'è stato un passaggio da un gestore gestore un altro passaggio ma arrivo il regolamento ma gli utili ci stanno con questa gestione o abbiamo fatto la fine dell'ospedale che tutti entrano nell'ospedale però l'ospedale non funziona allora posso capire le strutture che noi abbiamo ad Acropoli devono fare tutte la stessa fine perché vogliono andare a sostanza che la gente non ha capito niente gli utili ci sono Peppe Capozzoli perché lei l'ideatore l'organizzatore tutto quello che lei perché tutte le carte che trovo le firma tutte lei quindi secondo me la mente è lei geniale complimenti gli faccio quindi gli utili di questa gestione o bar o cinema o teatro il sindaco ha raccontato una poesia toccando come dice lui tutte cose belle e che funzionano voglio sapere gli utili gli utili ci sono gli utili o dobbiamo aspettare qual è la previsione al volo così Giuseppe al volo no questo non è un interrogatorio no no questo è un bel interrogatorio faccia rispondere a Giuseppe no rispondo io per conto della struttura tecnica visto che non è responsabilità ma se i conti ma se i conti li fa Peppe Capozzo l'ho trovato io un giorno per le scale oh mi vado a portare i soldi alla banca perché ieri abbiamo fatto un film ecco se Peppe è il Giuseppe Capozzo è il gestore tecnico finanziario finanziario è quello che poi si preoccupa non ci capite perché non deve parlare Giuseppe voglio sapere se ci sono gli utili o affattare la fine a Ruspatale a Rupro che poi non funziona mai niente tutto è aperto ma non funziona mai niente innanzitutto i cittadini giudicano se il cittadino funziona oppure no dalle servizi dai servizi dalle recensioni che abbiamo tutti i giorni e dell'affluenza che abbiamo tutti i giorni credo che il riscontro sia assolutamente positivo secondo me eccellente però può essere considerato da parte mia una dichiarazione diciamo come dire ecco di parte e quindi per questo motivo non voglio arrivare a espressioni eccessivi ma secondo me il funzionamento del teatro è assolutamente ha una gestione assolutamente positiva mi faccia terminare mi faccia terminare mi faccia terminare arrivo anche a quello che devo dire e allora sai cosa le dico le dico che a me non mi interessa i costi l'obiettivo del cineteatro come di tante strutture pubbliche non è fare soldi ma garantire servizi alla collettività mi faccia terminare consiglio mi faccia terminare 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 quindi l'obiettivo non sono perché l'obiettivo dell'ente locale specialmente quando si fa cultura quando si fa accoglienza quando si fa turismo non è l'introito economico l'obiettivo dell'amministrazione è il pareggio dello stesso non è fare utile noi non siamo qua per fare utile ma siamo qua per dare servizi e allora se noi facciamo un evento con cento persone dove queste persone vengono sensibilizzate per esempio alla violenza sulle donne dove si discute per esempio del caso Tortora ci sono altre cento persone che vivono una serata a discutere questi temi così importanti che per lei possono essere irrilevanti possono essere non importanti ma per me sono fondamentali perché svegliono la coscienza delle persone credo che sia impagabile tutto questo quindi c'è mi faccia terminare non la faccio parlare se non mi fa terminare mi faccia terminare devo terminare devo terminare il mio intervento consigliere devo terminare il mio intervento consigliere ma devo sentire coscienza ma quale lotte ha fatto lei quale lotte ha fatto lei ha lottato per l'ospedale non ha mai lottato per i cittadini mai consigliere Botticchio la prego faccia finire il sindaco e poi replica quindi stavo dicendo quindi non è l'obiettivo non è l'utile ma è organizzare servizi ed eventi che sveglino le coscienze che consentano l'incontro delle persone che diano alla nostra cittadinanza momenti diciamo da un punto di vista sociale, umano importanti questo è l'obiettivo del Cine Teatro poi è chiaro che i conti sono importanti lo sono sempre i conti importanti ma l'obiettivo che ci siamo posti è quello del pareggio del bilancio nel caso del Cine Teatro è chiaro che al momento il produttore Capozzi non le potrà dare e ora lascio la parola a lui non le potrà dare diciamo in termini precisi la situazione, gli potrà dare l'andamento della gestione della struttura magari si ricorda facendo riferimento all'entrata delle uscite dello stesso ma non potrà dargli il resoconto finale perché è ancora in corso, quindi ora lascio la parola a lui ma l'obiettivo che voglio segnalare da parte di questa amministrazione non è l'utile l'utile non ne sono soldi l'utile è il vantaggio sociale che noi dobbiamo ottenere dall'utilizzo delle nostre strutture questo è l'obiettivo poi se lei immagina di voler piegare diciamo l'aspetto sociale a quello economico è una cosa che dice lei la pensare le fa lei ma noi ne stiamo distanti allora lei parla di umanità ora vuole far parlare a Capossolo ma lei vuole parlare di coscienza di aspetto sociale economico voi fate solo economia pifat vostre quello lì è a gestione clientelare lo dico apertamente e non è a gestione per il bene della città tutto quello che voi mettete in moto è perché ci deve essere un fine il vostro fine e parlate di coscienza parlate di società e di umanità e l'altro giorno sono venuti gli ucraini ha detto mancano passe ci ha offerto pensa che il comune sapete cosa ha detto non abbiamo soldi mettono in moto altre macchine falso e te la chiamo te la faccio venire qua quindi non parlare di umanità tutti i giorni li riceviamo tutti i giorni mi complimenti perché stiamo gestendo la cosa voi governate in dissesto per me il bilancio è in dissesto e il cineteatro è in dissesto come in dissesto l'ospedale non si è stato capace di difendere neanche un mammografo siete solo amate in carichi amate in carichi è bravo è chiuso in una stanza il mammografo vergogna e poi parlate di umanità parlate di umanità parlate di umanità è fuori tema concluda grazie ci sono altri interventi Ingegnere Abbate prego sindaco lei nell'ultima frase detta ha parlato di obiettivo di questa amministrazione fare cultura e pareggio del bilancio del teatro convengo con lei al 200% così come convenni con me stesso sei anni fa non ricordo bene quando mi opposi all'assegnazione del cineteatro di Agropoli con una scelta scellerata della giunta cui lei partecipava mi sembra forse come vice sindaco e come assessore a bilancio che lo mise in gestione a terzi io mi opposi e dissi che non era una scelta che poteva e doveva fare la giunta comunale ma era una scelta che poteva e doveva fare il consiglio comunale perché il teatro era un'opera essenziale che serviva per fare questo che ha detto lei invece per cinque anni poi si è verificata la gestione e poi va bene finita la gestione tutti sappiamo ma ritorniamo un altro puoi dire che convengo con quello che ha detto lei ma ritorniamo convengo però in malo modo poi praticamente lei conviene con quello che ha fatto e la spiego perché torniamo alla delibera oggi si legge in questa proposta di delibera che con delibera di consiglio comunale numero 9 del 23 2 2021 è stato dato mandato all'aggiunta comunale con il supporto degli uffici competenti di avviare un'analisi tesa a definire una proposta operativa per garantire la gestione a partire dal 2021 poi scorrendo 4 o 5 di chi si legge dopo dato atto che la proposta del regolamento per l'utilizzo del cineteatro di Filippo di Agropoli sarà preventivamente esaminata congiuntamente dalla commissione cultura beni culturali pubbliche istruzioni nonché regolamento statuto delle trasparenze in data 27 2 2 mila e 22 queste sono due per usare un efemismo due imperfezioni per non dire due errori grossolani e madornali che la maggioranza fa costantemente per poter poi portare atti che ancorché discussi praticamente arrivano alla votazione alla votazione di misura la maggioranza che tiene non ricordo 14-15 consiglieri contro uno parlo solo per me in questo momento di minoranza vince no non è così che si fa purtroppo sindaco a mio modo di vedere poi lei valuterà e i suoi consiglieri valuteranno si ricorda sindaco che lei in quella delibera del numero 9 del 23-2 2021 io mi opposi fermamente a che la giunta venisse incaricata da questo consiglio perché è la competenza in materia di questo consiglio comunale così come aveva detto il segretario comunale di sei anni fa così come aveva detto il collegio dei revisori dei conti di sei anni fa quindi mi opposi lei però che precedentemente aveva fatto bocciare la delibera numero 8 che era la mia cioè la proposta di gestione del teatro da parte della città con i suoi consiglieri quindi guerriglieri di assalto onorevoli signori bellissime persone ma guerriglieri di assalto in politica si fece votare questa delibera in cui fortunatamente riuscimmo a strappare una sua frase in cui lei disse consigliere noi dobbiamo solo fare uno studio non dobbiamo prendere decisioni questo è quello che è scritto nella delibera che è stata richiamata anche dall'ex presidente Massimo Laporta poi venne la delibera che ha detto lei la variazione di bilancio di previsione armonizzata in cui la giunta aveva chiesto praticamente di porre in bilancio 15.000 euro nel 2021 e 45.000 euro nel 2022 al fine della riattivazione delle attività cinematografiche del cineteatro dei Filippo allora in quell'occasione in quella variazione di giunti io vi feci un'altra volta scorrere scorrere un'altra volta tutto quello che si era verificato nei mesi precedenti e dissi scusate mi meraviglio che avete fatto un atto così come dire meschino voi giunta voi sindaco meschino perché avete sottratto al consiglio comunale ciò che vi era stato grossolanamente imbedito nella delibera del 22 febbraio oggi voi giunta vi mandate di aver fatto praticamente programmi progetti e gestione del teatro e vi richiamai un'altra volta all'ordine ma così come era Prassi e così come Prassi la maggioranza ignora le verità e vota e quindi lei ancora si trovava il parere positivo in quella volta nella precedente seduta consigliare il consigliere allora Mario Pesca perché allora era consigliere ma ancora non aveva assunto la vicepresidenza le aveva fatto un'interrogazione sempre sul cineteatro e le aveva chiesto praticamente come stavano le cose sulla prossima gestione o sulla gestione in atto del cineteatro lei manipolando quelle che erano le realtà diete al consigliere Pesca un'idea che tutto stava andando bene e il consigliere Pesca in buona fede perché evidentemente è troppo in buona fede accettò e prese atto praticamente che tutto andava bene però le disse è bene scritto a verbale nel verbale di consiglio comunale disse mi raccomando coinvolgete la minoranza ogni qualvolta si tratta di fare decisioni noi nella delibera invece leggiamo all'unanimità come ha detto il consigliere Crispino di due commissioni è approvato il regolamento consigliere Crispino voi non eravate nemmeno l'unanimità di una commissione consigliere di Filippo voi non eravate nemmeno l'unanimità di una commissione voi eravate tre della maggioranza io non faccio parte delle commissioni fanno parte Botticca e Pesca i quali sono stati sicuramente regolarmente invidati e sicuramente non sono venuti ma voi avevate solo e soltanto una commissione la maggioranza un'altra commissione era presente solo un individuo se voi sommate due commissioni cinque più cinque fanno dieci di conseguenza la maggioranza praticamente vostra dovrebbe essere almeno sei ancorché in una persona si incarni la figura in due commissioni consigliate potreste essere di me ma io ho verificato e poi ci mettiamo con il segretario e verifichiamo quante volte voi non eravate nemmeno l'unanimità perché eravate giustamente praticamente solo una commissione presente quindi non era quella regolamento ma era quella della cultura quindi quella regolamento non era formata se non da consigliere di Filippo perché gli altri due facevano parte dell'altra commissione quindi altra stronzata perdonatemi il termine perché lo devo dire in modo che la televisione mi ripita e dici l'ingegnere Abbate è volgato però quando l'ingegnere Abbate può perdere il staff l'ingegnere Abbate può perdere il staff è chiaro che deve arrivare poi avete fatto un regolamento che oggi arriva in approvazione scusate ci mettiamo e parola per parole se amminiamo tutti tanto io ho lavorato cinque giorni e l'ho emendato parola per parola quindi stasera facciamo notte ma che regolamento avete fatto sta gestione di chi è è o non è nostra della città di Agropi del consiglio comunale sovrano che delibera Trimono Teatro lo gestiamo poi dopo dobbiamo dare ad occasione la gestione diciamo di un giorno chiedo scusa la conduzione di un giorno di due giorni di due giorni è altro aspetto ma abbiamo detto sempre in quelle delibere che avete richiamato e che avete richiamato pure l'ex presidente avete detto la gestione della città di Agropi esce poi fuori in una delibera la parola fondazione che qua ci stavamo meravigliando tutti che noi dalla minoranza non conosciamo proprio noi sta parola fondazione avevamo dalla città della delibera dopo che avevamo discusso qua che voi fra i denti avete detto un giorno forse faremo tutta la cultura una fondazione è nato aspetto quando arriverà questa fondazione non mi fanno un regolamento se era questo che da quest'aula venne sottratto praticamente a voi consiglieri maggiorari poi invece voi stasera vi rimangerete la parola e ritornerete ad approvare ciò che il sindaco ha proposto in questo momento fatelo ne avete facoltà voi siete i decisori del voto siete votatori in questo momento votate però vi dico riflettete perché in realtà la gestione in questo modo con questo regolamento non è dalla città la città non va altro che dire l'hanno su regolamento la volta che ha cambiato su regolamento va da Pasquale va da Francesco glielo assegno a lui perché semmai ha già fatto un tipo di bando così veloce e glielo assegno per un anno e allora si verificano con indifferenze che ha detto Massimo la porta perché in quel caso ci vogliono effettivamente i piani di sicurezza che ha detto Massimo invece l'irregolamento che ho inventato io parola per parola proprio per farvi perdere tempo proprio per tediarvi per rendervi praticamente irascibili questa sera prevede che giustamente un responsabile della sicurezza è andato per la città e noi in quel caso abbiamo delegato raggiunto noi noi cioè io che gli ho fatto questa proposta quindi adesso visto che il vostro regolamento a mio modo di vedere è un misto fritto che non dice ne ha e ne ho se poi ci vogliamo mettere a esaminarlo parola per parola sono qua a disposizione leggiamo il vostro regolamento parola per parola e io parola per parola poi vi chiederò che volete intendere con questo e arriveremo alla conclusione che voi vi pigliate il proprietario del Consiglio Comunale che approvi il regolamento domani mattina voi non siete responsabili di nessuna gestione teatrale di nessuna attività teatrale perché non state gestendo il cinereato ma di fatti il mio articolo 2 dice a chiare ed inecologabile lettere il teatro comunale è gestito direttamente dall'amministrazione comunale la quale provvede a formulare programma annuale dell'attività del teatro individuando le ipotesi di collaborazione con singoli soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni e la individuazione della modalità di verifica dei risultati e poi segue che vogliamo fare Presidente del Consiglio chiedo scusa se la metto in questa difficoltà vogliamo incominciare a emendare i regolamenti punto per punto sulla mia proposta volete intervenire e poi vi chiederò di mettere l'emendamento che volete fare ditemelo voi allora premesso che le do atto considera a base della ricostruzione che ha fatto e con molta serenità le posso dire che in alcuni aspetti ha assolutamente ragione perché poi alla fine se uno commette degli errori o fa delle imperfezioni sarebbe stucchevole e non corretto e soprattutto con mancanza di un esterno intellettuale non riconosce che si può anche sbagliare quindi rispetto a questo le do atto ecco questo intervento che lei ha testefatto per quanto dura assolutamente ragionevole che pone diciamo la questione non sulle chiacchiere ma sul concreto io assolutamente sono d'accordo nel affrontarla serenamente d'altra parte però non abbiamo detto che il consiglio comunale non poteva emendare o non poteva proporre delle cose alternative rispetto al regolamento stesso quindi diciamo io non ho problemi a ragionare sul miglioramento del consiglio però mi consente a questo punto anche un'asservazione da parte mia si poteva fare in commissione se lei fosse venuto però lo possiamo fare anche in consiglio è chiaro che è chiaro è chiaro che no le ho dato atto diciamo della ricostruzione e ci sta però mi dà pure atto lei che si poteva fare prima e non portare i lavori del consiglio così a lungo l'attenzione che lei ha posto al mio intervento però le dico che io non faccio parte più di commissioni consigliari per colpa esclusivamente dei voi della maggioranza perché le commissioni consigliari così come condotte così come non tenute e così come poi praticamente fugacemente convocate ancora più fugacemente tenute non approdavano a niente approdavano nulla di fatto quindi questa è la collaborazione che io sto chiedendo da dieci anni cioè facciamo il funzionamento delle commissioni in modo preciso corretto ancorché mi dispiace lamentarmi di una presidenza che è qui ex presidente che ha fatto di tutto per farvi fare le commissioni ma non mi basta perché ci voleva una presidenza decisa terza che vi doveva far cadere le mani i polsi doveva dire quasi fa questo perché questo è un interesse comune del consiglio comunale è questo quindi quindi non è che commissioni non ne faccio più parte ci rinuncia io soltanto quello che dobbiamo capire ora è se ci sono diciamo degli emendamenti che perché mi pare che il regolamento è stato nel parere dei revisori se ci si è è possibile se ci sono degli articoli che in qualche modo sono assolutamente almeno in questa fase modificabili perché era necessario ottenere il parere o nella nella completezza diciamo il regolamento deve acquisire il parere dei revisori cioè il parere dei revisori si acquisisce naturalmente soprattutto ai fini di eventuali problemi di carattere contabile ora se ci sono nel regolamento degli articoli che in qualche modo sono legati al parere credo non sarà possibile ma se ci sono altri invece diversamente che possiamo analizzare ci vorrebbe anche il parere del responsabile del servizio competente se sono questioni di dettagli evidenti tutta la c'è anche un po' il buon senso se sono questioni di dettagli si possono verificare al momento con il responsabile ma il segretario segretario posso non sono assolutamente questioni di dettagli sono questioni di sostanza perché in questo regolamento proposto la città di Agropoli che assume praticamente la gestione del teatro con una propria struttura interna è convenzionabile altra non compare proprio questo è un regolamento stasera quello proposto che dice autorizzatemi a poter dare praticamente in utilizzo il cineteatro per un giorno per dieci giorni a condizioni che si piglia quello poi la responsabilità di gestire praticamente la sua sicurezza no no non è questo questo è mortificante per la città di Agropoli non mi sto rivolgendo a lei perché già è giustato come segretario si rivolge di indiritto ma non nella politica nella politica mi sto rivolgendo a Silvio è mortificante per la città di Agropoli questa è un'osservazione sua io ho detto io non sono d'accordo naturalmente però dico se è possibile intervenire in questo senso però non so lei non è d'accordo sulla mia osservazione che è mortificante sull'osservazione di carattere politica non sono d'accordo è di voi che è mortificante approvatevelo vi voglio vedere stasera come vi è provato però sto dicendo approvatevelo se c'era la volontà consigliere però mi faccia dire io l'ho ascoltato con molto pazienza l'ho dato anche atto per l'amore di lui però sto dicendo se c'era da parte sua la volontà insomma reale e non quella di fare soltanto istruzionismo ma la volontà reale di dare un contributo per il miglioramento del regolamento ora ci troviamo nell'impossibilità essendo che lei ha mancato la commissione e ne ha fatto sapere prima eventuali eventuali richieste di modifica che potevano essere valutate per tempo e eventualmente messe al Consiglio acquisendo i pareri sia dei revisori che dell'ufficio se oggi siamo nelle condizioni se oggi non siamo nelle condizioni mi sembra di capire da quello che ha detto il segretario di fare modifiche perché è necessario chiedere il parere dei revisori quindi probabilmente se il contributo deve essere dato deve essere dato nei tempi per poter acquisire lo stesso parere oppure no e quindi oggi non siamo nelle condizioni di ascoltare eventuali richieste di modifiche perché avrebbe dovuto fare queste richieste nei tempi dovuti allora i regolamenti io li ho avuti quattro giorni fa cioè quando mandano i documenti a noi consigliere sono quattro giorni in quattro giorni quindi mi dovevo studiare il regolamento proporre le modifiche e darle da voi finché li potesse mandare al collagio dei revisori se me lo avesse dato effettivamente 20 giorni fa forse era possibile così con la collaborazione fra maggiori ma probabilmente se l'avesse inviato questa richiesta o comunque una comunicazione che riguardasse la richiesta si poteva benissimo spostare l'argomento e attendere ma non è che arriva in consiglio diciamo e dice ora spostiamo quindi l'obiettivo qual è? quello concretamente di dare una mano o quella è la volontà di fare o strutturismo o di mettere in cattiva luce la maggioranza cioè un fatto reale di voler dare un contributo al regolamento o di buttarla in politica per cercare di dimostrare hanno ritirato o non ritirato cioè qual è l'obiettivo finale del consiglio questa è una sua lettura no io sto chiedendo qual è l'obiettivo finale per capire ritirare un argomento non è una sconvitta ritirare un argomento è collaborare la minoranza ha fatto una proposta la maggioranza ha ritenuto che era una proposta alquanto ragionevole e dialogativa è una gestione di una struttura pubblica è importante vogliamo reincontrarci praticamente e discutere è una collaborazione però a questo punto la vede lei così sono anche disponibile a ritirare l'argomento diciamo però con l'obiettivo e l'impegno da parte sua che l'obiettivo è quello di dare un contributo e non di fare polemiche sull'argomento ve lo do io me lo do questa serie di regolamento e voi lo guardate poi mi chiamate casomai vi mettete d'accordo con i consiglieri immaginate con quelli di mio dice qua non ci siamo proprio e ne discutiamo e poi la prossima volta veniamo per l'amor di Dio io sono disponibile ti consegno il mio regolamento così come lo avevo fatto vuole vendere bene il consigliere invece no quindi allora però siamo cercando di capire se riusciamo a mettere insieme la possibilità di discuterlo e l'utilizzo dello stesso perché siamo comunque no dico allora votiamo la 5 di sospensione da parte del consiglio eventualmente prego consigliere perché volevo anche dare un apporto a questo che è il regolamento allora io voglio discutere più che da un fatto formale di due cose importanti noi ci siamo detti qua come si ricordava anche il consigliere Abate che ogni cosa dovremmo discuterla in questo consiglio comunale coinvolgente della minoranza di tutti io ho trovato questa puntazione che dovrà gestire il cineteatro che non so da dove è sbucata e da quale atto è mai nata e chi l'ha mai messa in mezzo cioè io non ho mai sentito parlare forse mi sto sbagliando di una puntazione che dovrà gestire il cineteatro non lo so se forse mi sono distratto io detto questo voglio andare al regolamento sindaco questo regolamento che i consigliere mi hanno pure invitato a verificare parte da un presupposto secondo me sbagliato qual è il presupposto sbagliato? quello di dare le richieste entro 15 giorni assegnare il cineteatro a chi ne fa richiesta io credo che bisogna prima di tutto fare una cosa prima di tutto programmare cioè io credo che tutto vada cambiato in un senso fondamentale cioè che le richieste tranne quelle eccezionali per eccezionali intendo qualcosa di come è successo sempre sul discorso dell'Ucraina c'è una manifestazione c'è un evento e quindi si fa la richiesta le richieste vanno fatte per la programmazione perché se oggi il cineteatro non programmiamo quello che vogliamo fare non è che possiamo andare avanti ogni 15 giorni e decidere che cosa fare del cineteatro allora ci deve essere una programmazione quindi le richieste che devono essere fatte vanno fatte 15 giorni prima del programma che si intende fare e quindi una programmazione semestrale o annuale però va fatta prima non è concepibile immaginare dire oggi noi facciamo la richiesta entro 15 giorni vi diamo l'approvazione non è possibile perché non è programmazione è un andare avanti così normalmente per inerzi sindaco quando puoi affrontare il sindaco continuo stavo dicendo quindi allora io cambierei la prima parte di questo tipo di regolamento dicendo che le domande vanno fatte 15 giorni prima della programmazione perché una volta fatte quelle domande e accettate vanno insieme nella programmazione semestrale e quindi possono essere utilizzate non prima quindi poi volevo dire un'altra cosa io trovo strano nel quello che diceva il consiglio dell'abbate che si porta in consiglio comunale un regolamento che tra l'altro non prevede nemmeno spese perché c'è la riserva di indicare poi l'aggiunta qual è la somma che queste associazioni devranno versare o queste persone devranno versare e non si possa modificare credo che la modifica ma è proprio il consiglio comunale che è riunito per poter portare le modifiche altrimenti noi siamo soltanto portati a ratificare un qualcosa che è già stato deciso non credo la modifica del regolamento è proprio data ai consiglieri comunali e al consiglio comunale ci potrà dire magari potrete farle prima queste richieste ma non ci è stato detto per cui oggi in questo momento io credo che delle modifiche relative al funzionamento a questo regolamento possa essere realizzata e accolta normalmente grazie grazie prego io chiedo al segretario al dottor Capozzo la gestione la gestione economica del cineteatro da novembre non c'è novembre a oggi da novembre a oggi non c'è il dottor Capozzo quindi sono quattro mesi allora lo dico al segretario io voglio la gestione la contabile di conti l'entrata e l'uscita cioè quale sono le spese cioè devo capire noi abbiamo un complesso che funziona e funziona bene tutto il sindaco quindi funziona benissimo oltre allo scopo umanitario sociale tutto quello però noi dobbiamo capire se abbiamo capacità amministrativa cioè così ci misuriamo no? di fronte al popolo quindi io voglio la parte contabile la chiedo al segretario comunale grazie chiedo scusa sul sindaco se è possibile sulla mia osservazione di scusate vabbè non faccio di sapere se è possibile dire che 15 giorni delle richieste vada fatta prima della programmazione o prima di 6 mesi o prima dell'anno questo è quello che volevo dire ed è soltanto qualcosa di eccezionale come evento quello di farlo 15 giorni prima dell'evento stesso grazie grazie possiamo prego ingegnere prego io non faccio parte di questa commissione per cui insomma non conosco assolutamente a fondo nessuna problematica e così via ho ascoltato il consigliere massimo la porta sulla problematica della sicurezza ma sinceramente non ho capito bene questa cosa probabilmente perché è colpa mia assolutamente non ho afferrato bene anche se posso pensare che la problematica della sicurezza possa essere allora diciamo assimilata alla sicurezza dei cantieri posso fare questo ragionamento però il sindaco mi pare che ha chiarito questo aspetto nel senso che allora la problematica dei cantieri mobili è una problematica che viene affrontata quotidianamente ci possono essere degli aggiornamenti ci sono degli aggiornamenti di continuo per quanto riguarda le persone che lavorano massimo la porta che si è interessato si interessa tuttora di queste cose lo sa bene quindi probabilmente o è così o non è chiara o non l'ho capito io ma al di là di questo che è un aspetto secondo me secondo me secondario io dico questo abbiamo discusso di questo regolamento nel preconsiglio ne abbiamo discusso con i consiglieri che si sono interessati di questa cosa insomma è stato formulato questo regolamento che è funzionale che è assolutamente funzionale sicuramente tutto è perfettibile tutto è migliorabile chiaro allora i consiglieri di minoranza non condividono questo regolamento ma ci saranno delle ragioni sicuramente potranno essere valide o non valide ma condivisibili o meno questo è il concetto questa è la cosa che dico io cioè noi come consiglio come membri della maggioranza lavoriamo abbiamo lavorato e lavoriamo e continuiamo a lavorare sempre per il bene della città quindi di conseguenza tutto ciò che può essere emendato che può essere sistemato può essere corretto va benissimo ma in un momento successivo ovviamente non vedo perché non si possa approvare non vedo perché non si possa non si debba approvare questo regolamento che oltretutto come mi riferiva il consigliere Crispino che ha curato questo questo regolamento è un regolamento di carattere generale quindi non lo so potrà essere emendato in un momento successivo però io ritengo penso che debba essere approvato in questa sede in questo momento grazie consigliere Camarotti sì consigliere Marciano fa confusione fa confusione sui cantieri mobili sicuramente è appunto per questo se lei è pure professore cercherò di spiegarle quali sono le mie motivazioni assolutamente allora i cantieri mobili non c'entrano nulla stiamo parlando di sicurezza sui luoghi di lavoro nel momento che c'è un luogo di lavoro che si chiama bar attività produttiva io ritengo che lì ci sta un'interferenza tra soggetti che arrivano per utilizzare le sale cinematografiche hanno un'interferenza con i passaggi in comune nel momento che ci sta il cittadino Marciano che sta prendendo al bar il caffè e ci sta un'evacuazione mi deve dire tutte queste interferenze esistono o no e i fini della sicurezza bene che cosa ho detto io ho detto nella dichiarazione di impegno che fa il soggetto affidatario della sala non vi è l'impegno perché non è a conoscenza che parte della struttura è stata locata l'è chiaro l'ingegnere Marciano ma può essere può essere sicuramente però io le sto parlando dell'attuale stato di fatto lo stato di fatto oggi per la sicurezza sui luoghi di lavoro la norma è chiara è la 81 ingegnere ok allora io ho dato un contributo poi se viene visto come problema è la maggioranza ai numeri sicuramente può votare grazie consigliere possiamo chiamare i consiglieri in aula i consiglieri in aula grazie prego sindaco allora penso che abbiamo cercato scusate se ci siamo presi un po' di qualche minuto per fare una riflessione in più quindi penso voglio fare una serie di osservazioni la prima l'ingegnere Abada diceva io ho avuto la proposta quattro giorni per questo consiglio comunale dovrebbe questo lo sto verificando per questo ho atteso un attimo ma credo che dalla mail del comune è arrivata presso la sua PEC credo la proposta del regolamento inizio febbraio mandata dal consigliere Crispino per opportuna conoscenza è coscritto sopra a bocca quindi lei è stata nelle condizioni di conoscere il regolamento fin da febbraio fin da febbraio quindi se vogliamo parlare come sempre e nel suo caso gli ho riconosciuto l'anestà intellettuale avrebbe potuto anche dire che la proposta l'aveva a conoscenza da febbraio e che probabilmente l'ha guardato soltanto quando è arrivata la proposta di consiglio sicuramente sì perché non facendo parte di commissione consigliare credevo che il tutto venisse discusso in commissione consigliare con i membri della miglioramento atteso quindi che non ci si può dire insomma che la proposta lei non la conoscesse e che quindi non l'avesse il suo interrogatorio sta procedendo molto bene quindi sono accusato di aver letto il ritardo no sta procedendo bene consigliere quando lei mi si riferisce lei ha fatto ma scusi consigliere ma la cosa è incredibile quando l'opposizione fa la cronostoria e l'ho ascoltata e l'ho dato atto di quello che è avvenuto segnalando tutta una serie di situazioni al sindaco e il sindaco ascolta e dà anche atto poi quando il sindaco prova a fare una sua cronostoria parlando della storia riguardo di questa delibera non lo può fare che è un interrogatorio allora o diciamo abbiamo sempre la solita di poter dire ok io accetto che tu mi fai delle osservazioni e tu accetti le mie ma il fatto che solo perché il sindaco non può dire dell'opposizione l'opposizione può liberamente sparare sulla croce rossa ma che è corretto quindi se lei ha fatto una ricostruzione degli atti aggiungendo tra l'altro anche delle osservazioni degli aggettivi che ci siamo tenuti abbiamo detto anche atto ora che io mi permetti di fare un serenzio e dico guarda la tenevi già da 3-4 mesi state libera e c'è l'interrogatorio no penso se vogliamo essere corretti nei rapporti quindi è un dato di fatto che lei conosceva già la delitto allora penso che le sue osservazioni da una prima visione non è che stravolgono completamente la proposta quindi sarebbero anche in maniera ragionevole in qualche modo anche apprezzabili da tenere in considerazione ma attenzio che noi il regolamento ci serve in ogni caso per poter rispondere alle domande di richieste che verranno nei prossimi giorni d'altro quindi la proposta che faccio ai consiglieri al consiglio insomma è acquisire la proposta del consigliere Abbate l'osservazione diciamo del consigliere della porta agli atti del comune cominciare ad approvare il regolamento così com'è e per il prossimo consiglio riportare eventualmente questo regolamento per le eventuali modifiche in questo modo cominciamo a gestire la cosa per non rimanere una vacazio acquisiamo insomma le osservazioni fatte e impegno a riportare l'argomento nel prossimo consiglio comunale eventualmente acquisendo sì eventualmente possono essere fatte altre richieste acquisendo una volta che abbiamo le proposte da parte dei consiglieri l'eventuale parere del responsabile l'eventuale parere dei revisori così in questo modo abbiamo la certezza che queste possono essere discusse dal consiglio comunale oggi abbiamo tutti quanti i pareri di regolarità tecnica di regolarità contabile ma modificando il regolamento oggi queste modifiche potrebbero in qualche modo perdere la regolarità per effetto del fatto che perdono diciamo la regolarità da parte dell'ufficio che non conosce le domande quindi oggi abbiamo sicuramente un regolamento che da un punto di vista tecnico giuridico può essere approvato l'eventuale modifica proposta dal consigliere Abbate potrebbe non renderlo da un punto di vista tecnico giuridico approvabile perché potrebbe esserci delle osservazioni che in qualche modo contrastano con la normativa sia contabile che giuridica quindi oggi io direi andiamo avanti con l'approvazione del regolamento prendiamo atto delle richieste dei consiglieri le acquisiamo le inviamo per acquisire i pareri successivi da parte del collegio di revisione dell'ufficio alla luce diciamo poi dell'acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti ci rivediamo prima del consiglio comunale ne discutiamo e lo riportiamo nel prossimo consiglio penso che questa sia la mediazione diciamo più utile in modo tale che noi ci dotiamo di un regolamento ma che ci riproponiamo nel breve di poterlo discutere perché oggi credo e penso potete dirlo anche voi siamo nell'impossibilità di discuterlo liberamente perché non abbiamo la certezza che le proposte del consigliere siano da un mondo di vista ripeto tecnico-giuridico diciamo utilizzabili per le modifiche posso? grazie se anche la mia proposta è stata inserita in questo la mia proposta è questa quella di far fare in via generale tutte le proposte 15 giorni prima della programmazione se la programmazione semestrale 15 giorni prima della programmazione semestrale 15 giorni prima se la programmazione annuale è solo in via eccezionale in alcuni casi farla 15 giorni anche se non è stata valutarla anche se non è stata poi proposta nei quei 15 giorni grazie va bene passiamo alle votazioni no un attimo presidente prego allora il sindaco ha proposto una miscellanea soluzione cioè quello praticamente l'avete sentito di fare poi praticamente di correggere il tiro stessa miscellanea che fu proposta con il regolamento del centro sociale polivalente stessissima soluzione poi il centro sociale polivalente tiene sempre quel regolamento e non si è mai verificata la modifica io allora a quello che ho condito prima come aggettivi ma penso di non toccare gli uomini assolutamente continuo aggiungo altri aggettivi prima di chiudere l'intervento perché già so la fine di questo regolamento e dico tenevo scritto sul mio intervento che adesso vi consegnerò insieme a quella proposta che vi ho consegnato e che costituisce richiesta di mozioni al regolamento c'è scritto non è vero la commissione che ha esaminato il regolamento era solo quella relativa alla cultura e in quella relativa ai regolamenti era presente solo di Filippo vogliamo ritornare a richiamare le vostre furbate sul numero dei componenti delle commissioni congiunte cioè furbate che avete tentato nel corso della legislatura varie volte fanno le commissioni congiunte e poi dice basta che ce ne siamo o tre su cinque c'è maggioranza no ce ne vogliono sei su dieci il primo febbraio 2022 viene trasmesso dal consigliere Francesco Crispino con la laconica scritta per opportuna conoscenza il regolamento che riporta la dicitura bozza da primo febbraio 2022 ad oggi chi avrebbe dovuto organizzare l'incontro maggioranze e minoranze per fargli arrivare a una conclusione su questo regolamento sarei stato forse io a dover organizzare questo incontro ospettava alla maggioranza dopo aver tinteggiato queste arroganze io sarei passato alla richiesta di tutti quegli emendamenti che per brevità e perché ormai arrivato a una certa età si arriva anche a un riassunto pratico li ho consegnate ve li ho fatte leggere tutti quindi adesso segretario la prego di scrivere al verbale dopo questo intervento che le consegnerò che io le ho consegnato quella richiesta di tutti quegli emendamenti che sono praticamente scritti in rosso in quella proposta di regolamento exonuo e che voi poi come consiglia comunale farete le decisioni puntini 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 decidete quello che volete sulle mie proposte se farle reggere non farle reggere se farle votare non farle votare se buttarle nel cestino oppure portarle praticamente fuori nel corrido e strappare fate quello che volete grazie grazie passiamo alla votazione ma non ci sono ma non ci sono sugli emendamenti sugli emendamenti proposto dal consigliere abbate propongo diciamo al consiglio di votare contro gli emendamenti con l'impegno in ogni caso di prenderli in considerazione per riportarli nel prossimo consiglio come ho dichiarato precedentemente perfetto sulla proposta di votare gli emendamenti del consigliere abbate chi è favorevole chi si è ma volete proponere la proposta di votare la prossima consiglio comunale però la proposta è stata votata perché la credo è tutta il signore che ha detto proposto di impugnare questa e di discutere il prossimo non questo qua parallelo ho detto che voto in questo momento vista l'impossibilità di poter istruire diciamo gli emendamenti propongo di votare contro diciamo l'approvazione degli emendamenti per il motivo che siamo nell'impossibilità di poterli istruire e diciamo con l'impegno naturalmente di riportare l'argomento al consiglio comunale prossimo in modo tale da poter rianalizzare alla luce dei pareri che possiamo acquisire rispetto alle sue richieste siccome in ogni emendamento ci sta il pro e il contro lui ha detto praticamente un pro contro che ancora non abbiamo capito per farlo capire chiaramente ci sta anche la mia proposta di votare gli emendamenti ora uno per uno facciamo così perché se noi votiamo erroneamente non possiamo fare una votazione unica allora in sintesi l'ingegnere Abbate mi sta sottoponendo degli emendamenti all'attuale proposta segretario deve far votare insieme al presidente emendamento su emendamento articolo sull'articolo questa è la frase però dico non ha senso questo che le propone consigliere la porta perché ho appena detto che la valutazione dell'articolo per articolo non può essere fatta in quanto ogni proposta non è diciamo valutabile da parte del consiglio comunale perché non ha il parere per poter essere votato mancando di istruttoria non ha senso votare l'articolo perché ognuno perché non è che uno può essere approvato e uno può essere votato contrario nessuno di questi può essere posto in discussione perché manca l'istruttoria allora io dico che senso ha votare articolo per articolo si vota abbiamo il responsabile se il responsabile ritiene che non può rilasciare nessun parere perché è impossibilitato lo deve dichiarare io sicuramente non è che su due piedi posso dire che il regolamento va bene o meno così come i revisori dei conti l'emendamento il parere di legittimità sull'emendamento lo vuol dare sì o no avrei necessità di leggerlo puntualmente regolamente allora sta dichiarando che non è nelle condizioni di poter rilasciare ok allora aggiungiamo questo che il dottor Capossolo non è nelle condizioni tra l'altro ma anche il parere dei revisori dei conti che non è possibile acquisirlo in questa sede ora cioè per quanto definito miscellania la proposta però è quella per quanto miscellania è più ragionevole nel senso che io ho detto oggi non si può neanche discutere di questi argomenti perché non abbiamo l'istruttore quindi non abbiamo i pareri e prendo impegno di riportarlo con i pareri acquisiti però intanto non lo possiamo votare quindi propongo di votare contrario perché non li possiamo proprio portare in votazione penso che è più chiaro di questo no è chiarissimo e poi il segretario che deve racchiudere giusto lei è stato chiarissimo quindi propongo propone per queste motivazioni ma nel contempo propone al consiglio di votare questo regolamento certo perfetto vada avanti nella prossima cioè vada avanti formuli alla proposta per il segretario facciamo vota allora del resto così come è modificato questo è un nuovo regolamento l'ha detto il stesso regolamento quindi non è che necessita di essere votato articolo per articolo è un altro regolamento è un altro regolamento tecnicamente potrebbe essere anche votato contro i pareri voglio dire in assenza di pareri vi ricordo che noi senza pareri dei revisori abbiamo votato qualcosa di più importante il bilancio bravo segretario allora questa è la cosa che è più bravo di non votarlo senza i pareri va bene segretario io non metto in dubbio questo per l'amor di Dio non sto discutendo sulla sua professionalità nella lettura di quello che io ho proposto se sono emendamenti o se è un nuovo regolamento assolutamente me ne guarderei bene io sto facendo sottolineare a questo consenso che il sindaco non dice sono emendamenti che non possono essere votati per questo motivo per cui rinviamo l'argomento no dice gli emendamenti non possono salutare per questi motivi e qui pensiamo proprio approviamo un regolamento così com'è poi le promesse che fa perché la prossima non ci interessano a questo consenso va bene allora non li votiamo perché non è possibile non c'è un istruttore completo perfetto allora sulla proposta degli emendamenti dell'ingegnere Abate del nuovo regolamento chi è favorevole? ma io ci sono stati anche degli emendamenti allora dobbiamo votare tutti gli emendamenti su tutti gli emendamenti sì sì chi è favorevole abbiamo detto Abate Botticchio Pesca Bufano la porta chi è contrario non è passato un attimo la proposta la mia questa è qua che i 15 giorni per la richiesta del cineteatro va fatta o sei mesi prima o sei mesi prima della programmazione allora la mia proposta è questa cioè uno deve però ne posso dire consigliere programmare a sei mesi la programmazione prima di fare la programmazione tutti possono fare una domanda per delle attività 15 giorni prima quando la programmazione è semestrale se la programmazione è annuale 15 giorni prima dell'anno perché è sempre il Comune che fa le programmazioni però una programmazione a così lungo periodo taglia le gambe e le associazioni locali che le quali diciamo le associazioni locali non hanno la capacità di una programmazione di così lungo periodo quindi vogliamo che noi le associazioni locali per programmare uno spettacolo sei mesi prima ci vuole un'organizzazione che non hanno quindi ecco perché abbiamo ridotto io dicevo questo dicevo già che adesso è fatta la programmazione comunque semestrale cioè io penso o trimestrale deve farlo cioè un bando deve farlo il Comune deve programmare tutte cose tre mesi prima non so se è chiaro dottore Capozzo e qual è diciamo la proposta è che prima della programmazione del Comune si invitano le associazioni o chi debba fare degli eventi di farlo 15 giorni prima la proposta di questi tre mesi quindi perfetto diciamo organizzate è logico che se vuoi fare un cartellone degli eventi sindaco perché quel tipo di evento che uno propone va va inserito nel calendario di mesi l'obiettivo suo è quale ridurre la possibilità di utilizzo o di ampliare la possibilità programmare già prima ho capito ma questo già è prevista la possibilità di programmare per tempo però poi si è ristretto il termine dell'ultima presentazione per favorire una maggiore fruizione però se lo facciamo ogni 15 giorni non ogni 15 giorni uno può proporre fino a 15 giorni prima e si può utilizzare fino a 15 giorni ma se tu allunghi la possibilità del periodo riduci le possibilità di richieste io dico questo il comune deve fare una programmazione trimestrale per esempio nel tempo ottobre novembre dicembre prima di ottobre 15 giorni prima di ottobre va fatta la richiesta e quindi dopo passato quel termine arriva una situazione tre giorni dopo e non può fare richiesta per tre mesi questa è la richiesta sua ma sai perché e questo non riduce le possibilità e le associazioni locali di poterlo fare c'è una ragione che così si permette al comune di poter programmare cioè se io praticamente faccio ma il comune non è che deve dare per forza non è che deve dare per forza e la richiesta viene fatta fino a 15 giorni prima ma il comune rispetto agli impegni di programmazione che ha perso in essere può dire anche no alla proposta cioè se io ho programmato per dire la stagione teatrale la programmo per tempo e il 10 luglio faccio per dire c'è un evento programmato arrivo una situazione 15 giorni prima mi chiede l'evento del generale per il 10 luglio gli rispondo di no non è che c'è la possibilità di fare richiesta fino a 15 giorni prima ma non c'è l'obbligo da parte del comune di dire sì o no 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 sto dicendo questo qua cioè la gestione del cineteatrale deve essere fatta con un programma trimestrale semestrale o deve essere fatta ogni 15 giorni cioè questo è il mio dubbio no e la programmazione si distoglie si distoglie dalla possibilità della singola richiesta si fa una programmazione complessiva però la singola richiesta può essere fatta anche fino a 15 giorni prima però la programmazione si suppone le richieste perché se no come faccio a programmare io tre mesi va bene allora faccio un esempio pratico succede il dramma dell'Ucraina e poi fammi parlare però è un bisogno del cineteato per fare un evento di sensibilizzazione non avendo se io metto una tempistica di tre mesi prima che non posso più utilizzarlo vuol dire che se devo fare un evento nel breve non lo posso fare più e quella è la cosa eccezionale eh no però tu riduci la possibilità di utilizzo del cineteatro perché non sono d'accordo io invece voglio aprire la possibilità di utilizzo del cineteatro io dicevo noi facciamo la prima poi se c'è un evento eccezionale quindi giorni e già stai cambiando la proposta ma così l'ho fatto io così l'ho detto prima no io voglio che sia quando più possibile utilizzabile la struttura del cineteatro vabbè c'è questa questa è mia richiesta rimane comunque rispetto alla proposta che la portiamo come vi ho fatto nell'altro caso in valutazione quindi giorni prima della programmazione con la stessa motivazione mi propongo rispetto alla proposta del consigliere sulla proposta del consigliere Pesca di imporre la presentazione della domanda domanda almeno 15 giorni prima della programmazione trimestrale quindi vuol dire che diciamo uno deve fare la richiesta quindi ci sono prima del trimestre quindi diciamo che se io voglio fare un evento diciamo se io sono il primo gennaio e faccio la richiesta il primo gennaio posso avere il teatro soltanto dopo quattro mesi non posso avere la prima potrei dire una cosa pure io sull'argomento per fare delucidazione se è possibile chiedo scusa Massimo secondo me Mario sta facendo una proposta che non è comprensibile da voi per un semplissimo perché Mario il vostro regolamento molto probabilmente non per malignità non l'ha letto cioè voi non vi siete mai impegnati a fare una gestione teatrale con quel regolamento state facendo tutte altre cose cioè Mario vedi che nel loro regolamento non ci sta mai in impegno a dire noi gestiamo il teatro e facciamo la gestione praticamente c'è scritto nel mio ma non nel loro quindi loro è un contratto di misto loro con un locale che in questo momento decidono se vogliono fare loro sulla scorta poi di quale delega nostra del Consiglio non lo so questo lo vedremo dopo quando mi scorcerò e vi farò la richiesta cioè perché voi giunte e pigliate la decisione che potete fare questo se noi non avevamo mai delegati mai sono sette anni non avevamo mai delegati mi pigliaste allora la forza di dire ci hanno delegati per fare la parte è decaduto la parte la gestione ma adesso state in una gestione che era atto di indirizzo fino a ora sempre atto di indirizzo ma una volta l'atto di indirizzo è stata esecutiva e quindi raggiunti in esecutiva e facci il caro cavolo no signori no non è così è competenza nostra però non voglio fare polemica quindi perciò continuo a fare una richiesta che loro non convengono se loro non sono mai impegnati a fare una gestione annuale in questo programma non vi dovete inserire proprio potete inserire io vi do tutte le giornate dopo prego consigliere La Porta grazie io invece osservo che nell'allegato A che parte integrante del regolamento è omesso lo scrive quindi va bene così si deve votare sulle votiamo un attimo la proposta del consigliere Pesca chi è favorevole alla proposta del consigliere Pesca così come formulata Abbate Botticchio Pesca Bufano La Porta chi è contrario sulla proposta del consigliere La Porta che la spiego un attimo la proposta del consigliere La Porta nell'allegato A di inserire il dichiarante non è a conoscenza che all'interno della struttura dobbiamo formulare in forma propositiva è una dichiarazione una dichiarazione di voto no 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 e ho messo nella dichiarazione allegato A di inserire di inserire nell'allegato A che colui che dichiara sotto la propria responsabilità è a conoscenza che la struttura sia un'attività di inserire nell'allegato A ma che parte della struttura è locata allora la dichiarazione la dichiarazione di conoscenza di conoscenza da parte dell'istante sì l'istante che parte della struttura è locata e quella parte della struttura va identificata perché se noi non identifichiamo quando gli fate dichiarare che deve prendersi la responsabilità di eventuali danni ad arredi cose e persone cerchiamo almeno di definire l'area quella dove ci sta il soggetto locato possibile non ci sta però questo è un discorso diverso effetto alla valutazione alle interferenze questo è un discorso più relativo allovo io credo che è una tutela per entrambi sia per l'ente che per il soggetto che nel momento che fa una dichiarazione è una cosa del momento conoscenza di quello che trova nella struttura e in quel momento scatta poi l'adempimento di fare congiuntamente un piano di sicurezza o di adeguarsi al piano di sicurezza della struttura parte della struttura dell'età da quella parte allora sulla sulla ci sono altri effettuari o altri soggetti stiamo ragionando giusto perché così siamo chiari stiamo ragionando sull'eventualità più gli organi ispettivi avranno modo di capire perché se giustamente sa che arriva un ispettorato saprà qual è la parte locata e la parte in uso il discorso di cui stiamo parlando l'ispezione si vede sul progetto cosa? si vede sul progetto come sono dislocate le attività sul progetto dove sta? no comunque se c'è un'ispezione al Cine Teatro acquisisce diciamo la primaria del Cine Teatro e verifica come sono distribuite le attività è io che mi hai dato in affidamento la struttura per l'utilizzo del giorno X che non sono a conoscenza e mi hai fatto dichiarare questo io dirò all'ispettorato del lavoro non era a conoscenza di un soggetto terzo pertanto io declino ogni responsabilità valutando io sto facendo allora io devo difendere la mia città il mio comune perché non voglio che deve poi pagare sempre pantalone ecco è un contributo l'unico problema consiglio della porta è che quando si fanno i regolamenti devono essere si dice astratti generali e quando si fanno i regolamenti però che si definisce una dichiarazione dottor Minardi mi deve dire come fa a definire i danni a terzi no a lungo conto è una generica assunzione di responsabilità sulla locazione di chi che sia ma gli deve dire preventivamente che è altro che dire identificare adesso quanto è stato locato adesso perché potrebbe non non esserci domani capito ma domani io prendo un dato di fatto premesso che doveva essere riportato nel corpo della delibera che parte della struttura è in locazione se lei mi omette questo e dice che è generico siamo proprio su due poli opposti cioè generico che cosa dottore ma veramente qua sono numeri perché se veramente mi dite che generico un'osservazione che vi sto facendo di uno stato di fatto ma scusi consigliere La Porta lei prima ha parlato di interferenze il documento unico di validazione rischi e interferenze ma al momento della concessione degli appalti ma quali appalti innanzitutto io sto parlando di luoghi di lavoro lei sta facendo confusione dottore sto parlando di luoghi dei lavori dove operano lavoratori e si valuta al momento non in un regolamento ma al momento cosa al momento della concessione è al momento che mi ha affidato a me io non sono a conoscenza chi me lo deve dire ma al momento in associazione posso ma non parecchio è così allora atteso ma perché non lo ritirate propongo propongo a questo punto atteso che la modulistica non è essenziale ai fini del regolamento e dato che la modulistica deve essere soggetta eventualmente a modifiche anche normative del momento lo togliamo dal regolamento e togliamo questo allegato al regolamento in modo da consentire all'ufficio di aggiornarlo anche su perché sennò bisogna tornarlo ogni volta in consiglio perché viene bloccato per l'eventuale modifica se c'è una modifica urgente l'ufficio non lo può fare quindi lo togliamo e risolviamo il problema quello che può essere inserito adesso in questo momento è che l'istante prende atto di eventuali locazioni di eventuali interferenze ma il documento sull'interferenza ma fatto al momento non può essere messo in quel momento possono esserci uno, due, tre, quattro cinque attività diverse perché inserire adesso l'attività che c'è adesso nel regolamento l'attività sono tenuto al DUR ma perché non ritiriamo tutto il consigliere di Filippo vuole vendere e si ripropone perché la gestione serve da domani il regolamento posso fare un attimo prego consigliere di Filippo la discussione le attività che oggi sta nel cineteatro ha l'obbligo appena insediato appena avuto l'atto concessorio di munirsi del famoso DVR documento di valutazione rischi che poi sintetizza e rappresenta un po' tutto quello che dice Massimo attenzione il DVR lo produce l'istante l'appaltatore voglio solo come esempio che può essere anche il concessionario allora dottore il DVR documento di valutazione rischio cominciamo a dare i no il piano di sicurezza è un'altra cosa e allora questa è la cosa che mi sto cercando di far capire no Presidente ci siamo arrivati abbiamo ritirato l'allegato chiedo scusa un conto il DVR il documento di valutazione dei rischi è una cosa il piano è un'altra cosa ancora allora voglio ma mi consentiti posso parlare certo se mi fa parlare forse arriviamo ad un punto il documento di valutazione dei rischi lo produce l'impresa o il concessionario nel momento in cui decide di partecipare ad una palta ad una concessione il documento di valutazione dei rischi e interferenze lo produce la stazione appaltante o il concedente che deve andare a fornire appunto a colui che vuol partecipare ad una concessione ad un appalto o che altro quella che è la valutazione appunto del datore di lavoro piuttosto che della stazione appaltante piuttosto del concedente quelli che sono i rischi delle interferenze tra le io sono d'accordissimo è la domanda che le faccio io oggi lei ha stipulato il contratto con il soggetto affidatario del bar l'ha stipulato lei Massimo chi l'ha stipulato l'ufficio no l'ufficio patrimonio non lo so chi l'ha stipulato ok nel momento che è stato stipulato quell'atto quel contratto chi ci deve uniformare secondo lei in che senso in materia di sicurezza il senso che a lei lei è una materia di sicurezza è alla base di ogni contratto caro segretario non deve fare confusione l'appalto io le sto parlando per capirci viene un secondo soggetto ma perché lei viene e non mi dice nel corpo della delibera c'è ma perché in questo momento c'è o non c'è non ne posso prendere atto adesso ma sta scherzando ma mi fa concludere posso parlare è certo che vuoi parlare non mi parli addosso perché se no non parlo vi dico un minuto per dire quello che sta dicendo lei nel momento in cui dovesse arrivare l'istanza di un altro soggetto allora il comune di Acropoli deve mettere l'altro soggetto nella condizione di poter esaminare quelli che sono i possibili rischi di interferenza ma in quel momento non adesso in sede regolamentale e in quel momento quando avviene all'istanza perché ci sta il soggetto dentro oggi sì o no mi sembra certo che ci sta ok però consigliere questa discussione può proseguire benissimo nella stanza del segretario cioè ora per me la possiamo fare dove volete nel senso che oggi l'argomento è discussione un altro allora abbiamo dato un contributo sempre consigliere che siamo abituati a pagare visto anche il prelevo dai fondi di riserva e noi l'accogliamo volentieri nella stanza del segretario ma qua siamo nel consiglio comunale entriamo in alcuni dettagli che diciamo lascio il tempo che trovo va bene sindaco grazie allora per l'approvazione del regolamento per l'utilizzo del Cine sottratto l'allegato A che ritiriamo chi è favorevole scusate la dichiazione di voto scusate su questo qua consigliere sono la dichiazione di voto però prego solo che annuncio la mia la mia dichiazione di sindaco annuncio la mia astensione della mi astengo da questa votazione anche perché vi è stato alla base di questo regolamento un lavoro da parte dei consiglieri quindi per cui anche pure essendo contro per i motivi che ho detto mi astrerò grazie perfetto ripetiamo allora sull'approvazione del regolamento per l'utilizzo del Cine teatro senza l'allegato A che ritiriamo chi è favorevole chi si astiene pesca chi è contrario botticchio a bar bufano e la porta dove modificando modificando l'articolo 7 dove parla di modulo predisposto allegato A solo modulo predisposto non c'è l'allegato A per l'immediata eseguibilità chi è favorevole consiglio approvo quinto punto all'ordine del giorno modifica regolamento per la disciplina del canone completare le votazioni presidente mancano le nostre votazioni che eravamo contrari comunque giusto per devi far votare sull'immediata chi è contrario all'immediata eseguibilità il consiglio approva si astiene pesca grazie il consiglio approva quinto punto all'ordine del giorno modifica regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria del canone mercatà relazione all'assessore muta ripassi come questo consiglio ricorderà in data 23 febbraio 2021 con delibera numero 15 è stato approvato il regolamento che introduceva il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico esposizione pubblicitaria e il canone mercatale questo in effetti dal 2021 ha sostituito la tassa occupazione del suolo pubblico il canone di occupazione del suolo pubblico l'imposta pubblicitaria e l'imposta sulle pubbliche affissioni cosa è successo che durante questo primo anno di attivazione o di applicazione di questo regolamento ci si è accorti di due di alcune problematiche di applicazione soprattutto perché quando si è andati nel caso pratico che con questo regolamento si vuole cercare di risolvere e precisavente l'articolo 46 che individua la distinzione del territorio comunale in due categorie la prima categoria e la seconda categoria e che successivamente al terzo al secondo diciamo l'applicazione della tariffa prevede che per le strade di seconda categoria si applica la tariffa ridotta al 50% si vuole si vuole meglio come dire regolamentare quelle casistiche che potevano creare diciamo delle difficoltà di applicazione e precisamente qualora un'occupazione solo pubblico dovesse capitare parte in una strada principale e parte in una strada secondaria quindi ad angolo si vuole si vuole adesso ben specificare che si applica la tariffa più elevata ossia quella della strada principale un'altra distorsione poteva capitare quando si trattava di occupazione temporanea da parte di imprese edili siccome a queste imprese edili aveva riconosciuto già in base a un altro articolo di questo regolamento una riduzione del 50% allora quando capitava che le stesse imprese edili dovessero occupare strade secondarie quindi si applicava vogliamo evitare che si applica il doppio scondo del 50% più il 50% quindi specifichiamo che lo scondo del 50% prevista per le state secondarie non si applica qualora l'occupazione venga richiesta da parte di imprese edili pertanto se ne chiede l'approvazione ci sono interventi prego consigliere da parte assessore allora vi è una planimetria relativamente alle due categorie che sono state individuate in categoria 1 e categoria 2 è allegata alla delibera di approvazione del 26 febbraio 2021 su questa non è non mi è pervenuta questa no giusto per dirlo perché e poi una curiosità nel momento che lei va a identificare parte della città nella prima categoria sono riferite sia ai suoli sia alle strutture pubblicitarie esattamente cioè andiamo a mettere per esempio via Marrota sul lato sinistro ci sono dei cartelli pubblicitari vanno vanno nella seconda categoria quelli che sono più importanti diciamo nella prima categoria sono allegate proprio precisamente quali sono le restate mentre tutti i tre protettori comunali vanno nella seconda categoria la cosa che noto anche lo stesso campo sportivo Randolfi non viene riportato se non erro perché non lo ritrovo perché parliamo delle zone più strategiche per diciamo l'esposizione pubblicitaria e non li facciamo pagare di più come mai vabbè centro urbano eh però nel centro urbano lei poi mi identifica che ricomprende sia San Marco dottor Cavazzolo dato che è una è un'altra anomalia che ritengo perché sia nella nella gestione della collocazione del manufatto l'ufficio tributi dovrà poi sorvegliare tutto il procedimento o sul codice della strada interviene il comando polizia municipale o l'ufficio preposto urbanistico stiamo parlando degli impianti pubblicitari stiamo parlando io credo che c'è una grande anomalia tutto è oggetto di un'ulteriore deliberazione quella dell'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari dove verranno individuate le localizzazioni delle zone ma non ci sta non ci sta è un'ulteriore deliberazione che ancora dovete dovete deliberare è stata fatta consiglio dottor Capozzolo il 12 marzo 2020 è stato fatto un atto di indirizzo all'ufficio urbanistica proprio per predisporre il piano generale degli impianti pubblicitari ma infatti è in base di lo stiamo predisponendo che sarà sottoposto al consiglio comunale a breve credo che ci sta un'anomalia abbiamo perché richiamiamo richiamiamo al piano giustamente il tutto dove poi ancora oggi non c'è chiarezza va bene come gruppo il nostro voto è contrario grazie ci sono altri interventi passiamo alle votazioni allora chi è favorevole alla proposta così come relazione dall'assessore Mutali Passi chi si astiene facciamo un appello segretario la fa del aspetto vediamo che il presidente grazie a tutti grazie a tutti Presente. Quindi, ripeto, passiamo alla votazione. Punto numero 5, all'ordine del giorno. Chi è favorevole come relazione dall'assessore Mutali Passa alla proposta? Chi è contrario? La porta a bufano o bottiglie. Chi si astiene? Ingegnere Abbasi. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? La porta a bufano o bottiglie. Chi si astiene? Ingegnere Abbasi. Il Consiglio approva. Sesto punto. Presidente, posso intervenire in Consiglio? Certo. Allora, come avevo detto, poco fa sono uscito dall'aula consigliare, perché grazie all'interposta persona, e ringrazio naturalmente per la disponibilità, l'amico Cuglielmo Stendardo, appena parlato con il calciatore Andrischev Gengo. Il quale, veramente, l'ho sentito telefonicamente commosso per il dramma che purtroppo sta vivendo lui e la sua nazione. E la prima cosa che mi ha detto, un appello all'aiuto. Ditto aiutateci, aiutateci, abbiamo bisogno. E ha ringraziato l'Italia, perché è un paese che veramente si sta operando in tutto e per tutto per il sostegno dei profughi. E quindi, io naturalmente ho dato la solidarietà della città di Agropoli al dramma che stanno vivendo. Lo faremo anche dopo con una delibera di consiglio. E, naturalmente, ho messo, ho detto a Città di Agropoli che noi faremo tutto il possibile perché possano trovare una seconda patria queste terribile vittime di questo terribile dramma. Poi, allo stesso tempo, però, lui, con grande affetto ricorda la città di Agropoli, l'ha confermato nell'intervista, ma l'ha confermata anche telefonicamente. E ha detto che la prima cosa che vorrà fare, appena sarà terminato questo terribile momento, e poi venire ad Agropoli, io naturalmente gli ho sia comunicato la volontà unanime del Consiglio Comunale di conferire la città di Nanzaro Orari, e sia anche il grande affetto che portiamo nei suoi confronti e che abbiamo sempre portato negli anni, ricambiato. Ero ringraziato per il fatto che spesso cita la nostra città, che è il motivo d'orgoglio per noi, oltre che naturalmente di pubblicità per la nostra città. E quindi lui ha detto che lo rifarà ancora, perché ha ancora un bellissimo ricordo. Però oggi veramente non si sente di partecipare ai eventi celebrativi, perché è un momento molto difficile per lui e per il suo popolo. Però abbiamo acquisito, insomma, da parte sua la promessa, insomma, che appena le cose termineranno verrà a trovarci. Quello sarà l'occasione veramente per fare a lui una doppia grande festa. Ci auguriamo presto, perché sarà finita la guerra e che potremo festeggiare, insomma, questa storia, se vogliamo, ecco, di affetti tra una città e un grande personaggio dello sport, che naturalmente ci riorgoglisce e sono sicuro che quando sarà possibile averlo qui faremo veramente un grande evento a lui, naturalmente dedicato. Per intanto, dobbiamo proseguire l'attività come abbiamo, e ci siamo in piena con lui, come lo facciamo, naturalmente, soprattutto verso noi stessi. La volontà di D'Alessio le darà al popolo ucranio e continueremo. E voglio naturalmente anche ringraziare Guglielmo Stendardo per essere riuscito a metterci in contatto, per aver ottenuto questo contatto che ora cercheremo di, ecco, tenere costantemente, in modo tale da non perdere questo rapporto con lui. Grazie, scusate dell'interruzione. Grazie, Sindaco, dell'ottima notizia. Sesto punto all'ordine del giorno. Modernizzazione e adeguamento del sistema informatico comunale e riuso del software a titolo gratuito dei programmi applicativi dei progetti Simel2 e Simel, soluzione con codice riuso, piattaforma develop. Di relazione, il Sindaco. Ritorno in consiglio comunale una delibera che riguarda la CST Sistemi Sud che, come sapete, ne abbiamo discusso diverse volte, è una società informatica che si occupa di software in cui il Comune di Agropoli è comproprietario con altri enti locali ed abbiamo una quota, diciamo, circa del 30%, se non sbaglio, la quota societale del CST. Circa il 30%, insomma. Negli anni, con discrete fortune, la società ha prodotto importanti progetti per quel che riguarda l'aspetto informatico di discrete fortune perché è stato sempre difficile per tutta la società, ma soprattutto per la società pubblica, fare un percorso condiviso con gli enti locali perché c'è stato anche un rapporto, in qualche modo del tempo, diciamo, non di costanza. Per esempio, ricordiamo il fatto che prima il Comune di Salerno faceva parte della società, poi è uscito, quindi ha avuto dei momenti anche di riorganizzazione della società stessa. Ma negli ultimi tempi la nuova organizzazione che è stata messa in campo sta lavorando molto bene e ha fornito al Comune di Agropoli tutta una serie di servizi gratuiti grazie al finanziamento di un progetto sistema di uso che ci ha portato l'utilizzo della fornitura della casella post-certificata, della conservazione sostitutiva e dell'assistenza, dell'utilizzo di domini, siti web istituzionali, sistema anti-intrusione, anti-spam, sicurezza e cloud e insieme ad essi gli applicatori di riuso Simel e Simel 2 con tutta una serie di servizi che riguardano l'ufficio Tributi, l'ufficio Anagrafe, tutta una serie di altri servizi che in qualche modo sono stati già utilizzati dal Comune di Agropoli come dagli altri comuni. Con il termine del progetto la società di CST Sistemismo è rimasta proprietaria dei software e continua naturalmente questi software a cederli gratuitamente naturalmente al Comune che è di fatto proprietario della società, quindi in questo modo noi abbiamo la possibilità di avere l'utilizzo di alcuni di questi software in maniera gratuita, quindi è un rapporto che in qualche modo ci favorisce da questo punto di vista. In più, nel nuovo progetto che si porta all'approvazione del Consiglio Comunale ci sono una serie di altre attività che interessano altri moduli software e con l'acquisizione di questi altri moduli software abbiamo finalmente quel progetto che noi ne parliamo da tempo, insomma, piano piano sta andando avanti, quella dell'informazione globale dell'ente. Gli altri software che arriveranno saranno quello di contabilità finanziaria, quindi dell'ufficio ragioneria, all'ufficio commercio l'indegrazione e evoluzione delle componenti applicativi, l'utilizzo del gare e contratti con l'utilizzo di integrazione di back office, un altro programma che sarà utilizzato nel sistema socioassistenziale, su web e sue, con un potenziamento di evoluzione dei componenti applicativi e dell'integrazione. Quindi tutti questi programmi completeranno con quelli che già abbiamo l'informizzazione completa, diciamo, di tutto il Comune di Agropoli. Naturalmente l'affidamento che vogliamo dare oggi, atteso che la Centrazione dei Sistemi Sud si è dotata con una modifica statutaria, così come prevede l'ANAC, della possibilità di ottenere affidamenti in house, è ottenuto dall'ANAC appunto il parere per poter svolgere questo tipo di attività, quindi si è dotato di tutto ciò, abbiamo la possibilità quindi di affidargli ora direttamente questo servizio di gestione di questi software, con naturalmente un sostegno da parte di personale della società che possa accompagnare i nostri dipendenti all'utilizzo e all'acquisizione delle competenze professionali per poter svolgere e utilizzare in maniera migliore tutte le tecnologie informatiche che stanno arrivando. Colgo l'occasione naturalmente, se avete necessità di una implementazione della descrizione del servizio, siamo qui insomma per poterlo spiegare, ho cercato di cogliere gli aspetti più importanti e l'affidamento diciamo è circa 95.000 euro a cui si aggiungono le spese diciamo dei canoni della società e anche l'IVA. Questo servizio naturalmente è stato acquisito il parere dei revisori, stavo dicendo, e ha acquisito anche naturalmente per poter ottenere il parere dei revisori tutte le comparazioni con altre società private che in qualche modo potevano ridare lo stesso servizio e la comparazione dà un vantaggio alla società CST Sistemi Sud in termini economici proprio perché nessuno poteva offrire, proprio perché la società CST Sistemi Sud grazie al progetto di riuso è titolare di alcune licenze software, nessuno deve offrire una spesa minore rispetto quindi al privato. Quindi sulla base di questo concetto che la nostra società è più competitiva rispetto al mercato noi facciamo l'affidamento in house. Stavo dicendo che è un momento anche molto positivo in termini di finanziamento, sapete che il PNRR si concentra molto sulle implementazioni informatiche ed in particolare la nostra società CST Sistemi Sud ha partecipato e partecipa proprio a un bando che riguarda l'implementazione informatica del servizio integrale dei rifiuti. È un progetto molto bello, diciamo futuristico, però che potrebbe una volta finanziato migliorare di molto il servizio alle raccolte dei rifiuti, incrementando non solo il servizio ma cercando, questo ci consentirebbe anche di ottimizzare naturalmente i costi che naturalmente è sempre l'obiettivo fondamentale, cioè quello del risparmio dei costi per i cittadini. Questi altri progetti stiamo preparando, sta preparando la società CST Sistemi Sud per il futuro degli enti partecipanti e quindi siamo contenti che abbiamo proprio una società adatta a certi tipi di servizi in modo tale che anche nelle corotatorie possibili sia per il fatto che partecipano diversi comuni, sia per il fatto che una società specializzata può ricevere più punti nelle varie corotatorie in cui si sarà consentito di partecipare. Quindi questi aspetti, quella naturalmente dell'efficienza, quello del risparmio economico, quella della possibilità di implementare insomma nuovi progetti che possano rafforzare l'ente sono tutti alla base dei motivi secondo me che ci devono portare a valutare positivamente l'approvazione della delibera. Se ci sono altre richieste di chiarimenti siamo qua. Ci sono interventi? Prego consigliere la porta. è difficile il verso della problematica perché è una problematica che parte da 15 anni sindaco la prima domanda che gli formulo il progetto riuso che è oggetto di finanziamento regionale vedo in aula anche il presidente della CST così riusciamo ad avere contezza un po' perché l'illustrazione del sindaco è un racconto però poi ci perdiamo nei vari passaggi allora la prima cosa se ricordo bene assessore Mutali Passi nel piano del bilancio che abbiamo redatto nel 2021 il CST Sistemi Sud era una società da dismettere ricordo bene ricordo benissimo era da non da dismettere da riqualificare in attesa perché non era stata completamente smessa perché in attesa che la stessa potesse essere appunto beneficiare di un di un contributo per lo sviluppo di attività e quindi superare quelle che erano le le criticità perché obbligavano l'ente alla sua dismissione nel senso che c'erano c'erano dei limiti diciamo quantitativi di fatturato era quello il limite che imponeva poi all'ente l'obbligo dell'eventuale dismissione no perché se posso essere diciamo di ulteriore chiarimento si parla effettivamente la normativa parla nell'ultimo triennio di un minimo di fatturato di 500 mila euro ma nel caso nostro della società CST nel 2018 ha avuto un finanziamento di 875 mila euro quindi questo naturalmente gli consente di essere messo in media e inoltre ci sono ulteriori diciamo norme che in qualche modo vengono implementate e si aggiornano in particolare le società in house che hanno un utile per queste società che hanno un utile come il caso della CST di servizioni che è da sempre inutile la norma autorizza anche a prolungare la detenzione delle partecipazioni di queste quindi la dismissione diciamo è una norma di carattere generale ma la nostra società CST se misutti sia per il fatto che è una società inattivo da sempre inattivo sia per il fatto che può essere conteggiato al fine della media dei 500 mila euro anche i progetti in finanziamento questo ci mette nelle condizioni di poter continuare a utilizzarla ma tant'è nel senso che oggi è assolutamente ancora operativa e a oggi è comunque vantaggioso l'affidamento e quindi per questo motivo al fine di poter chiarire mi devi convincere ancora mi devi convincere perché è vantaggioso noi avevamo un progetto riuso dove il progetto prevedeva un monteore che è stato finanziato dalla regione Campania giusto Presidente? Presidente non è l'aula si rivolgo al sindaco giusto perché lo guardo perché non riesco ad avere notizie se non quelle del suo racconto perché noi consiglieri comunali oltre il suo racconto non abbiamo atti e documenti prima lei si girava ancora una volta ancora una volta ancora una volta qual è la percentuale di acquisizione delle quote anche qui credo che ci sia un po' di confusione però poi non c'è confusione è solo che uno fa mille cose che non ricordavo precisamente il problema è che non le può fare mille cose questo è però dico consigliere rapporto lei definisce le mie dichiarazioni racconti io mi astengo da commentare le sue ma perché questo? perché non voglio andare in un vortice di polemica non è in uso da parte sua la polemica ma se vuole possiamo scendere anche a questo livello mi auguro di non arrivarci però quando lei quando lei diciamo commenta le mie dichiarazioni diciamo cerca di essere rispettoso dell'altro perché io non ho raccontato le sue dichiarazioni sono racconti fandoni fesserie cose brutte quindi evitiamo se possibile se no possiamo scendere a qualsiasi livello come vuole lei qualsiasi campo io sono a sua disposizione io sono molto rispettoso perché le sto facendo delle domande che non riesco a trovare negli atti che ha prodotto siamo qui per rispondere il progetto riuso a quanto ammonta quello finanziato dalla regione Campania 875 mila euro in quel progetto vi era un monte ore che veniva finanziato proprio per quel supporto che lei oggi chiede a questo consiglio comunale di integrare di 90 mila euro sì no 90 mila euro non è solo supporto ci sta il pagamento dei diciamo dei canoni della società ci sta diciamo l'acquisizione di nuovi programmi che non sono che non erano a riuso e poi c'è anche un'integrazione in termini di personale dove lo devo leggere io dagli atti che ha prodotto qua nel piano programma nel piano programma sì bene vediamo il piano programma vi è una descrizione e poi va una ripartizione ecco qua piano programma gestione servizi CST ci sta la descrizione del servizio certo mi deluci e poi c'è scritto totale acquisto e manutenzione servizi 97.822 quota riparto spese generali 19 mila euro IVA 18 mila euro per un totale di 135.043 poi c'è un dettaglio ulteriore che dove si evingono insomma le quote e per quale motivo la cifra di 18.957 e secondo lei questo è il progetto come? è il progetto questo è il piano programma bene che stabilisce le cifre io consigliere comunale che devo autorizzare una spesa che si aggiunge a un contributo cioè qui stiamo facendo un cofinanziamento ok stiamo cofinanziando una somma che era stata preventivata che oggi non è più esaustiva lei mi sta dicendo questo no e che cosa mi sta dicendo? no sto dicendo che il servizio il progetto riuso così come era partito e così come ha funzionato nel Comune di Agropoli diciamo termina il rapporto cioè nel senso che termina i soldi del finanziamento sono terminati non ci sono più soldi di finanziamento allora vede che stiamo raccontando un qualcosa dove io non riuscivo a capire allora lei sta dicendo l'ho detto nell'introduzione si sono esaurite le somme del finanziamento regionale certo il progetto è finito noi ci agganciamo a questo sovvenzione a questo contributo per continuare delle attività sì che non sono più le attività di riuso perché il progetto è finito il riuso rimane sempre perché la società ha acquisito nel suo patrimonio i software grazie al finanziamento e ce le gita gratis quindi il vantaggio che noi abbiamo se io il software che ne so tributi dell'ufficio tributi lo dovessi andare a prendere all'esterno mi costerebbe che ne so 30.000 euro e noi lo acquisiamo gratis quindi il vantaggio di aver ottenuto il concetto è questo è vero che sembra complicato ma nella sua specificità è assolutamente semplice la società CST riceve un finanziamento e acquisisce per conto dei comuni un patrimonio questo patrimonio che nel nostro caso è un patrimonio immateriale ma che potrebbe essere che ne so un albergo una casa una macchina diciamo lo acquisisce la società e lo fa utilizzare gratuitamente agli enti locali quindi il progetto il progetto riuso di fatto per quanto è terminato in sé rimane patrimonializzato alla società dei software che oggi noi utilizziamo gratuitamente quindi di fatto è come se continuasse l'utilizzo del progetto perché noi da quel finanziamento ancora usufruiamo il vantaggio di avere software gratuiti viva Dio cioè se abbiamo un finanziamento è chiaro che noi ne usufruiamo di quel bene quel servizio che ci è stato finanziato e abbiamo acquisito quindi su questo siamo d'accordo sono d'accordissimo una cosa che non sono d'accordo è di finanziare cst su che cosa ora abbiamo questi software che ci vengono gratis ma il progetto non aveva tutti quanti nel progetto che c'era inizialmente si era si era puntato sugli uffici quelli più come dire strategicamente importanti che sono l'anagrafe l'ufficio tributi e questa somma di uffici lei ritiene che ha un costo a un costo questa somma di uffici questi uffici qua già hanno i programmi e quindi perché il progetto se fosse questo perché erano quelli più complicati da gestire perché avevano una grande quantità di dati da convertire da una software all'altro e quindi quando è andato il progetto cst si è pensato a quello agli interveni nell'end che fossero più costosi e sono stati finanziati e realizzati gratis ora noi abbiamo già acquisito questi programmi con tutti i costi collegati che ci sarebbero costati se avessimo utilizzato un'altra società utilizzando il privato gratuitamente ora per completare l'integrazione completa di tutti i software dobbiamo aggiungerne altri come per esempio l'ufficio ragioneria l'ufficio ragioneria noi lo avevamo imbassato con un'altra società di software non ricordo Golem Golem Software era un'altra società ora per consentire l'aggregazione dei dati abbiamo affidato alla società Cestis Semi Sud anche l'ufficio ragioneria in modo tale che si integrassero i programmi quindi oggi l'ufficio ragioneria può integrarsi con l'ufficio tributi può integrarsi con l'ufficio anagrafo può integrarsi con l'ufficio commercio eccetera eccetera quindi è questo vantaggio che evidentemente è assolutamente utile in quanto lo stesso programma si parla se avessi potuto integrare programmi che non si conosceva era più difficile mettere in contatto è avvalorato dal fatto che c'è anche un rispiamme economico rispetto se avessi voluto scegliere l'altra città di software quindi noi abbiamo due vantaggi quello di acquisire oggi un servizio che avevamo da altre società risparmiando e avendo la possibilità di integrare i servizi perché prima era proprio più complesso farlo perché quando abbiamo provato a interfacciare Golem con Maggioli non ne siamo riusciti a farlo funzionare bene invece oggi scegliendo Maggioli abbiamo due vantaggi costa di me e si integra con il resto non lo ho convinto e le spiego perché quando si fa un progetto si fa un'analisi analitica ok si prendono tre preventivi nel momento che si prendono i tre preventivi si fa la media e si mette come costo la media dei tre preventivi in questo momento lei mi vuole convincere nella somma totale di 97.000 euro dove analiticamente c'è solo il racconto ripeto solo il racconto ma analiticamente non mi può convincere perché non c'è un numero se non la cifra in calce di 97.000 euro allora il progetto è altra cosa del racconto caro sindaco io cerco di spiegargli questa cosa da tanto tempo una cosa è il progetto dove lei stasera mi può dimostrare con tre preventivi che è quello più conveniente di CST o di Maggioli come stava spiegando ma in questo momento non ha supporto mi devo fidare di lei e purtroppo non mi posso fidare il nostro voto è contrario va bene ne prendiamo atto grazie ci sono prego sindaco ma la Maggioli la CST che collaborano tra di loro mi sembra così ho capito ma forniscono anche la scelta scusa giusto la scelta dei Maggioli per il CST non è una scelta fatta così ci sono stati degli incanti bugici delle gare e quindi la Maggioli diventa parte delle scelte perché la scelta come sa l'ente pubblico non la può fare la deve fare rispetto a delle procedure di comparazione quali le gare di appauto queste società a lei gli forniscono anche risorse umane persone personale vicino a questi apparecchiature o parliamo solo di apparecchiature certamente offrono anche ore lavorate di personale che devono insegnare ai dipendenti per essere pratici come si utilizzano i software quindi per accelerare come dire la capacità da parte dei dipendenti di acquisire le nozioni che servono per utilizzare i software quindi su che base viene fatta la scelta sul personale di fuori io poi non è che conosco la sede di questa società se questa società è di Vicenza viene il personale da Vicenza non capisco lo trova qua il personale ma questo è un dettaglio che in questo momento non ci siamo posti nel senso che dovrà mandare delle ore lavorate di personale che assiste oggi ma in questa fase cioè io non è che io faccio la delibera del CST Sistemi Sud e io penso al funzionamento del servizio non rincorro l'idea del personale in questa fase non è rilevante nel senso che l'obiettivo oggi di questo caso è che deve decidere se il progetto è funzionale all'ente e se in qualche modo migliora ed è vantaggioso per l'ente poi il personale quando arriverà vedremo ci porterà del personale che lavorerà con perché ho conosciuto qualcosa da Agropoli che girava mi sembra che era di Capaccio sta persona era mi sembra nel CST e qualcosa da Agropoli va Capaccio voglio capire ci sta qualche selezione qualcosa questo per capire senza essere pungente ho detto solo così va bene va bene va bene prego Ingegnere Abad allora il sindaco lei ha detto a fine quasi discussione se volete informazione dopo che ha spiegato la fine della sua spiegazione se volete informazione sono qui ve li posso dare poi invece assisto alla discussione che ha fatto Massimo la porta e dice ma noi che cosa dovremmo capire da questo sproloquio scritto in delibera poi leggo considerandoci rientrata agli obiettivi strategici dell'amministrazione avviano un processo di trasformazione della propria struttura burocratica a partire dall'implementazione però questo lo dice verificato che il sistema informatico attualmente in uso non consente di dare esecuzioni in modo funzionale efficiente agli obblighi connessi alle disposizioni derivanti nel nuovo codice dell'amministrazione digitale verificato che la capacità interattiva dell'entico risulta oggettivamente limitata verificato che alcuni settori sono tutt'oggi sprovvisti di adeguati software gestionati in modo di consentire una più efficace azione amministrativa sembra una delibera della bontà cioè dice visto che teniamo tutte queste schifezze praticamente questa è la conclusione a cui devo arrivare questo è il solito atto che condiva una maggioranza mi dispiace adesso per il consigliere La Porta che ne prende atto solo ora e non ne prendeva atto invece nei modi dovuti quando era presidente del consiglio questo non per iniziare una polemica assolutamente con il consigliere La Porta che non intendo assolutamente iniziare ma per continuare una polemica con lei con questa maggioranza nella totalità di questa maggioranza non è questo il modo di portare argomenti in consiglio comunale perché perché non è questo il modo di dialogo che avrebbero dovuto tenere maggioranza e minoranza in un contesto funzionale del consesso comunale che era collegato con le varie commissioni e con i vari rappresentanti è chiaro che noi oggi siamo come i ciucci e i miei zesuni nel leggere una delibera del genere e non ne posso mai prendere atto è chiaro è evidente a meno che non dimostrate che io sia un demende e vi invito a dimostrarlo da questa delibera io non posso mai darvi un benestare per dire sì approvato perché non ho conoscenza dell'elementarietà di tutte le premesse che avete messo qua ma perché non ne ho conoscenza non perché io non ho frequentato il comune perché voi maggioranza non siete stati in grado di creare il dialogo collaborativo o almeno informativo fra maggioranza e minoranza quindi io voto no a queste delibero con tutti i sensi e con una soddisfazione più unica che ha dato quella di vedere che incominciano a venire fuori del perché praticamente alcuni della minoranza non hanno mai potuto collaborare con voi perché non siete capaci voi di chiedere collaborazione non ne siete stati mai capaci giusto una piccola rete è chiaro che questa sua interpretazione legittimamente fa però io non ho mai diciamo visto due dialoganti in cui uno assolutamente ragione e uno assolutamente torto secondo me nelle cose c'è sempre una corresponsabilità quindi se da parte mia lei dice io non l'ho mai detto fino ad oggi ma lei continua costantemente a dire che la maggioranza volutamente non vuole dialogare eccetera eccetera io posso dire che dal suo atteggiamento che ha avuto e come io ho accettato la sua osservazione la prego di accettare io la lei la mia perché poi significa come dicevamo prima che lei mi può fare un'osservazione e io l'accetto e lei no quindi secondo me è lei che non vuole discutere è lei che non ha interesse a discutere ma il vantaggio che ottiene dalla polemica è quello di fare confusione e di accettare fango sull'amministrazione quindi la mia sensazione che può essere anche sbagliata ma come tale rimane e la prego diciamo che la chiudiamo qui mentre lei dice non hai voluto collaborare io dico no non è che non ho voluto collaborare sei tu che non hai voluto collaborare perché l'obiettivo era gettare l'iscritto e non collaborare no sindaco accetto tranquillamente le sue valutazioni sulle mie osservazioni ci mancherebbe altro questa è democrazia io chiedo democrazia quindi perché non dovrei usare la la democrazia il problema è uno sindaco è che invito tutti i cittadini di Agropoli che in questo momento sono in ascolto a passare la voce anche a quelli che non sono in ascolto e andarvi a leggere tutte le delibere che si sono formolate questi cinque anni andare a vedere tutti i miei interventi andare a vedere il perché io contesto questa delibera oggi alla fine dei cinque anni in quanto dalle contestazioni che ho fatto nelle varie delibere cinque anni vi rileverete tutte le motivazioni per cui la maggioranza non ha voluto colloquare non perché consigliere Abbate non è disponibile a colloquare leggetevele per cortesia non ci vuole niente collegatevi al sito scaricatevi le delibere ancorché segretario comunale questo l'avevo chiesto come cortesia l'altra volta il sito su cui ancora scaricare le delibere di consiglio comunale non è operativo è operativo sempre praticamente l'albo pretorio diciamo riepilogativo andate a trovare una delibere là dentro segretario è da pazzi mi dovete credere se risalire agli anni passati incomincia a diventare difficoltoso quindi come una volta si andavano a leggere nel sito trasparenza tutte quante le delibere anno per anno lo faccia per cortesia questo sindaco se uno di questi sistemi sud può fare questo io lo faccia fare subito perché ogni cittadino ha diritto di andare a leggere le delibere grazie passiamo alle votazioni chi è favorevole alla proposta di cui al punto 6 dell'ordine del giorno Presidente forse sono dei consiglieri fuori vogliamo fare entrare un attimo sì il segretario vogliamo rifacere l'appello chiamiamo un attimo i consiglieri procedo chi è favorevole alla proposta di cui al punto 6 dell'ordine del giorno così come è relazionata dal sindaco chi è contrario la porta bufano pesca botticcia bari chi si astiene nessuno per l'immediata eseguibilità chi è favorevole chi è contrario chi si astiene il consiglio appro settimo punto all'ordine del giorno decletto legislativo numero 50 2016 successive modifiche di integrazione articolo 21 programma triennale 2022-2024 delenco annuale 2022 dei lavori pubblici approvazione relazione il sindaco dell'ordine del giorno di integrazione Grazie. Possiamo un attimo invertire, magari abbiamo un altro ordine del giorno da proseguire, possiamo invertire un attimo lì in recupero perché mi mancano delle notizie. Devo far votare per l'inversione. Fai votare, facciamo un altro intanto, il prossimo argomento chi lo relaziona? Il consigliere di Biasi. Ah ok, perfetto, allora così guardo un attimo. Quindi chi è favorevole alla proposta di slittare con un argomento? Lo mettiamo all'ultimo questo qua. Anzi, il punto numero 7 andrà al punto numero 11 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediato eseguibilità chi è favorevole? Chi è favorevole? Chi si astiene? Perfetto. Ottavo punto all'ordine del giorno. Proposta di liberazione del consigliere Franco di Biasi, Ucraina-Russia, perché cessino le armi e prevalga il dialogo. Relazione del consigliere di Biasi. Prego. Salve, buonasera a tutti, colleghi consiglieri, assessori, sindaco, amici che ci ascoltano da qui e che è collegato. Prima di tutto volevo fare un buccalupo al presidente del consiglio Giuseppe Camarota, così come volevo ringraziare per il lavoro svolto l'avvocato Mario Pesca, che anche se abbiamo fatto un consiglio e mezzo nella gestione e nel tempo si è stato veramente, per esempio, disponibile e molto bravo nel gestire i rapporti. Complimenti, però i complimenti maggiori te li voglio fare sui due interventi che hai fatto. Il primo è ricordare l'amico di tutti, Mauro Inverso, e il secondo sull'invito, sul modo di fare politica, consigliandosi un atteggiamento a volte diverso. Quindi anche nella fine del tuo mandato hai dato, come sempre, una grande risposta di stile e eleganza. Complimenti, Mario. Detto questo torno sul punto, anticipando però un'altra cosa dove prendo in assist la palla dell'ingegnere Abbate, perché come il sindaco si è ripromesso, volevo tornare soltanto sul regolamento del teatro, del cineteatro, quindi di riportarlo a più presto, magari considerando delle osservazioni che i consiglieri Abbate, la Porta e la Pesca avevano consigliato, perché forse non tutte erano sbagliate, ma noi avevamo l'esigenza di portare avanti il regolamento e da buon amministratore l'abbiamo fatto, però da buon amministratore, da persone serie, quale dobbiamo essere, dobbiamo poi portare avanti anche le promesse che abbiamo fatto ai colleghi consiglieri. Prendo, come dicevo, l'assist dell'ingegnere Abbate di rivedere finalmente anche il regolamento per quanto riguarda il centro sociale degli anziani, che abbiamo lasciato un po' troppo nel cassetto, quindi vi invito a chi aveva studiato il regolamento insieme all'assessore di competenza, di riaggiornarci il prima possibile e confrontarci il prima possibile. Va bene, tornando invece al mio punto dell'ordine del giorno di oggi, il giorno 24, quando ci siamo svegliati con la terribile notizia dell'attacco da parte della Russia in Ucraina, subito come Partito Socialista abbiamo protocollato un documento, una richiesta a tutti i consiglieri comunali, assessore, sindaco, di prendere atto e di dichiararsi con fermezza, contrari alla guerra, contrari all'abuso che sta soplendo il popolo ucraino, sommerso dalle bombe dell'esercito russo. Quindi una cosa pratica dove noi tutti i consiglieri e partecipanti a questa assise ci dichiariamo contrari alla guerra a sostegno della pace, non dimenticando che il mondo non è attraversato solo da questa guerra. Questa è quella che fa più rumore, forse per chi e per come si sta facendo, ma ce ne sono altre. Non dimentichiamo la Siria, non dimentichiamo tutto quello che ogni giorno ascoltiamo poco dai telegiornali. Quindi detto questo, l'invito è quello di sottoscrivere un documento il primo possibile da mandare al Governo e all'istituzione dell'Unione Europea per impegnarsi ancora di più ed evitare ritardi per un veloce accordo per la pace tra questi due Paesi e di ritornare a una stabilità d'animo da parte di tutti quanti e vivere insieme nella massima tranquillità. Grazie. Ci sono interventi? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta del Consigliere Franco Di Biasi? Volevo ringraziare Franco per le belle parole. Grazie Franco. Io volevo anche eventualmente questa delibera che sia dato anche atto della mia richiesta eventualmente a tutti i consiglieri, a tutti gli assessori e a clienti del Consiglio di contribuire come la parte nostra almeno in una quota di quelle che ci spetta come monumento per la partecipazione a questo Consiglio da destinare direttamente per dei fondi più lucrari. Volevo integrarla così questa delibera. Se posso restituire? Grazie. 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 Perfetto. Ripetiamo la votazione della proposta del Consiglio Di Biasi. Chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata disegubilità chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva. Nono punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta riservati a persone di trovare di contrassegno di parcheggio per disabbi. Esenso l'articolo 381,5 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della sala. Relazione il Comandante della Polizia Municipale che vede in aula e il Comandante del Consiglio. Prego, Comandante. Buonasera a tutti. Ho pensato di portare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale questo regolamento perché si era reso necessario di dover disciplinare la gestione delle aree dei disabili. È un regolamento molto snello. Praticamente non vi è un numero enorme di articoli. Tuttavia volevo relazionare sui caratteri generali del regolamento. Il quadro normativo è quello di riferimento al codice della sala del regolamento di esecuzione e la legge che disciplina i non vedenti. Abbiamo disciplinato delle casistiche particolari. Nella comunità si stava determinando una evidente confusione sui diritti del mondo della disabilità. Questo ente è stato sempre particolarmente attento al mondo della disabilità. Quando ancora non era obbligatorio esonerare i veicoli e servizi di persone disabili dall'esporre i titoli di pagamento, questo ente ha anticipato, è stato precursore dei tempi. Oggi, dal gennaio del 2022, dalla modifica del codice della strada, i veicoli e servizi di persone disabili sono esonerati dall'esporre il discolario e dall'esporre il titolo di pagamento nelle aree di soste. Fino al 31 dicembre del 2022 era una facoltà dei comuni. Il comune è stato precursore e già dall'amministrazione preseduta dal Presidente del Consiglio, l'ingegnere Abbata, avevano fatto questa scelta di esonerare i veicoli a servizio dei disabili dall'esono del pagamento. Tuttavia c'era bisogno di fare un po' di chiarezza perché tutti coloro i quali sono in possesso titolari di concessione per la disabilità, il famoso scudetto azzurro che vedete esposto sui parabrezzi, pensavano erroneamente di avere diritto anche alla personalizzazione del posto sulle aree pubbliche. Ovviamente io quando ho assunto l'incarico del comando avevamo un fenomeno di rilascio di autorizzazione abbastanza contenuto, ma nel giro di qualche anno vi è stata un'esplosione. Ad oggi abbiamo rilasciate concessioni, autorizzazioni in deroga per un numero di circa 1.400 autorizzazioni e sarebbe impensabile poter riservare con personalizzazione dei targhe sulle aree pubbliche oltre 1.400 posti. Sicché mi sono documentato e la risposta era proprio nella legge. L'articolo 381 del regolamento del codice della strada disciplina le due fatti specie. Chi ha la difficoltà anche sensibilmente ridotta ad un'autonoma deambulazione ha diritto al rilascio del contrassegno. Ovviamente su questo deve essere fatta una premessa obbligatoria. Chi vi parla o chi lo sostituisce, già mai si arroga poteri di valutazione medica. Noi non facciamo altro che tradurre in atto quello che è una certificazione rilasciata o dall'Inps, in sede di verifica medico-legale, oppure dall'ufficio di medicina legale direttamente dall'ASL. E sulla scorta di queste certificazioni noi rilasciamo le autorizzazioni in deroga per la sosta nelle aree riservate disabili per la sosta all'accesso nelle ZATL, nelle aree pedonali, oppure semplicemente per l'esonore del pagamento. Cosa diversa invece è prevedere uno stallo di sosta sulla Repubblica riservato alla persona che vive la disabilità. In questo caso l'articolo 381,5 del regolamento del codice della strada disciplina una fattispecie diversa. Cioè per poter avere il riconoscimento di uno stallo di sosta personalizzato è necessario acquisire una specifica certificazione dell'ASL che certifichi questa particolare condizione. L'unico elemento di valutazione, tra virgolette, discrezionale rilasciato al Comune è quello di valutare se la strada dove viene richiesta l'istituzione dello stallo di sosta personalizzata è una strada ad alta densità di traffico. E quindi sulla scorta di queste norme che vanno interpretate in modo sistematico abbiamo ritenuto di dover regolamentare la disciplina. Prima di fare questo lavoro però al fine di evitare di commettere degli errori e quindi chiamare voi ad esprimere una votazione che poi magari potesse essere considerata iniqua rispetto al mondo della disabilità mi sono confrontato con l'associazione italiana tutela invalidi civili che non ha sede ad Agropoli ma ha sede in tutti i capologhi di provincia. Quindi ho richiesto, ho mandato una bozza del mio regolamento, ho richiesto all'associazione italiana invalidi civili se stessimo procedendo diciamo nel rispetto della legge della tutela degli invalidi civili. E in verità loro mi hanno confortato con un parere che io ho allegato alla proposta di delibera e al regolamento sostenendo sostanzialmente che stiamo facendo bene e che anzi ci invitano, voglio dire nel caso in cui le aree di superficie non dovesse essere sufficienti ad adottare anche una forma di graduazione e quindi tenere conto in primis a quelli che sono più gravi e poi effettuare una gradualità. È una cosa come dire tra virgolette antipatica perché si entra in un meccanismo nel mondo diciamo della sofferenza, tuttavia però il fenomeno è esploso in tutta la sua dimensione numerica e quindi aveva bisogno di una regolamentazione. È evidente che nel valutare diciamo la possibilità di individuare delle aree abbiamo escluso a priori che questa individuazione degli stalli di sosta potesse avvenire nelle zone a traffico limitate e nelle aree pedonali perché di per sé sono delle aree che escludono la condizione di alta densità di traffico, quindi è una condizione diversa. Se avete delle domande, se non sono stato esaustivo, posso rispondere in modo puntuale. Allora io ho apprezzato il regolamento sotto tutti i punti di vista, solo però un consiglio se casomai è possibile. Visto che vi siete consultati praticamente con l'Associazione Nazionale e loro giustamente hanno scritto alla fine, vi ricordo infine che la decente riforma del Codice della Stata dal 1 gennaio 2022, la sosta nelle cosiddette strisce blu sarà totalmente gratuita per le persone affette da disabilità se i posti alle stesse riservate sono esauriti. È chiaro che va de plano questo regolamento, va in mano a famiglie e a persone che giustamente hanno il problema. Se uno lo ricorda anche nel regolamento, questo è cioè che ha consentito la sosta nelle strisce blu per i disabili è finito. Forse non siete stati attenti, ho detto così che in un regolamento adottato al Consiglio Comunale, dove il Consiglio Comunale era presiduto da lei, all'articolo 5 del regolamento che individuale disciplinava le modalità delle sosse in pagamento è già previsto da oltre dieci anni che, quindi siete stati voi, siete stati precursori e comunque il regolamento è stato superato dalla norma statale che sopravviene. Va bene, volevo solo farla giù per ricordarlo a chi va in regolamento. No, 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 voi siete stati precursori di oltre dieci anni prima, quindi voi avevate previsto quando era una facoltà, voi l'avate già previsto e quindi quel regolamento è stato superato. Prego, Consigliere Pesca. Io, Comandante, naturalmente siamo favoriti a questo regolamento. Io, in un altro Consiglio Comunale, ricordavo qualcosa, praticamente, di fare delle strisce rosa per le donne che hanno dei bambini piccoli a bordo e non solo, praticamente per le donne che sono incinte e quindi hanno bisogno imminente di parcheggiare. Quindi, se si può fare anche un regolamento, prevedere delle soste, cosiddette delle strisce rosa per queste persone. Grazie. Prego. Noi esprimiamo parere favorevole e mi complimento con il Comandante per l'ottimo lavoro. Grazie. Grazie a voi. Grazie, Presidente. Prego, Consigliere Bottini. Io, ugualmente, oggi mi sono sentita col Comandante, è stato già molto esaustivo per telefono, quindi lo trovo fatto bene e quindi il mio voto è favorevole. Grazie. È chiaro che la proposta condivisa con il Comandante già da tempo tocca un argomento delicato, per questo ho preferito, come dire, spersonalizzare la proposta che non sia, diciamo, per farla leggere anche all'opposizione in maniera più coerente, perché poi ogni proposta che viene dalla maggioranza può invece, spersonalizzandola e lasciando all'organo tecnico, concordando con, diciamo, con il Comandante, la stessa visione, avendo la stessa visione, ho lasciato a loro indicazione. È chiaro che è stato fatto un buon lavoro, quindi lo ringrazio. Per quel che va delle strisce rosa, noi credo abbiamo già per il regolamento una cosa del genere, ma siamo in una fase, come avete visto, di asfalti in città, quindi con le nuove strisce che faremo, sicuramente ci saranno indicate, se non sbaglio, il campo Landolfi, se non sbaglio, come luogo dove fare. Sì, ci sono delle location già stabilite per questo, quindi verranno ora, al termine degli asfalti, implementate le strisce e quindi verranno recuperate anche le strisce rosa. Però, insomma, ci associamo al lavoro fatto e prima parere favorevole alla votazione. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta del Comandante Caucini? Così come è relazionato. Unanime. Per l'immediata eseguibilità? Unanime. Consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno. Articolo 21, decreto legislativo 50-2016, programma biennale acquisti di beni e servizi 2022-2023, integrazione e approvazione. Relazione all'assessore Mutali Passi. Con delibera di Consiglio Comunale numero 10 dell'8 febbraio 2022, questo argomento è stato già oggetto di approvazione. Oggi si chiede un'integrazione di quella delibera in quanto si intende inserire per l'annualità 2022 il servizio di vagliatura, rimozione e smaltimento della Poseidonia ed inserire quindi l'importo di 495.000 euro in modo che questo, ricordo, è stato oggetto, questo importo è stato, è derivato da un contributo regionale e in modo che così si può dare modo agli uffici di procedere per le procedure di gara e per i servizi da svolgersi. Grazie. Prego, Consigliere La Porta. Assessore, non so se lei mi riesce a rispondere perché nel corpo della delibera rilevo una doppia possibilità. Volevo capire se il progetto era stato definito, visto che se ne definisce la cifra, nella somma dei 495.000 euro. Il sindaco penso sia più... Perché, leggo, vagliatura... 5.000 euro sono stati già utilizzati per pagare uno studio preliminare che era necessario al fine di poter poi redigere gli atti successivi. Uno studio preliminare. Quindi 5.000 euro. Ciò significa che non abbiamo ancora il progetto, abbiamo uno studio. Abbiamo uno studio preliminare e diciamo il progetto come abbiamo concordato è prima che facciamo studio preliminare e poi successivamente si faceva il progetto e l'ufficio ha lavorato per la direzione del progetto ma al fine di poter dare degli incarichi era necessario passare in Consiglio Comunale. L'indirizzo è vagliatura, rimozione, trasporto, stoccaggio, recupero, slash smaltimento. Sì. Che cosa significa? Si smaltisce... Si fanno una serie di attività, cioè le attività che si faranno trasvolte saranno quella naturalmente una prima separazione sulla spiaggia. La creazione di un'area di stoccaggio per poter posizionare... Perché parte di questa verrà, parte della possibilità, un immagino con questo finanziamento, parte sarà certamente direttamente smaltita. Altra parte non ce la faremo con i 500.000 euro e quindi sarà posizionata in una stazione intermedia in attesa di implementare anche lo smaltimento del resto. Quindi sarà necessario fare tutte le attività, quella diciamo di prima vagliatura della Poseidonia e poi con i 500.000 euro hanno finanziato in parte lo spostamento nella stazione di stoccaggio e parte nello smaltimento direttamente dalla... E questo verrà fuori le percentuali dalla gara di appalto che verrà fatto relativamente a questo servizio. Ritengo che il supporto che ha utilizzato sta generando confusione. Come ben sappiamo da anni il costo per lo smaltimento è tale che tutta la quantità è impossibile. Nello stesso momento lei mi sta dicendo che farà un'operazione promiscua. Parte viene smaltita e parte viene stoccata. Ritengo che non sia... Questo si verificherà insomma dai risultati della gara d'appalto. Ma perché mi fa la gara d'appalto? Però ragionevolmente sarà possibile... Perché bisogna vedere quale sarà l'offerta che verrà fatta. E non è la gara d'appalto. Può darsi che ci sarà un'azienda che mi garantirà il totale smaltimento con i 500.000 euro e può darsi invece che non ce la farà. Vedremo quello che sarà possibile realizzare, mettere in campo. Non è così. No, gli sto dando indicazioni perché se no continuiamo a perdere tempo. Visto che siamo prossimi alla stagione estiva, la invito ad avere con chiarezza tutto il percorso. Perché se lei pensa di togliere una parte e smaltirla e il resto di stoccarla con la cifra che è a disposizione, basta fare una moltiplicazione. Quantità per il costo dello smaltimento o quantità per quelle famose voci analitiche che le spiegavo prima nel progetto CST. Sì, non quadra. Cerchi di avere chiarezza su questo punto. Ma io accetto anche proposte, quindi siamo qua anche per accettare le proposte. No, le proposte lei le conosce. Io la mia idea l'ho fatta e la porterò. Se arriveranno proposte convenienti... Le proposte sono che questa opportunità di questo finanziamento cerchiamo di creare il sito di stoccaggio che è fondamentale. E l'abbiamo fatto, ci sta. Ok. E tra il sito e le operazioni di vagliature e di trasporto... Bisogna ottimizzare questo servizio. Non sono già esaltive questo servizio. Una volta che noi abbiamo realizzato... Se pensare di smaltire, bruciamo somme. In questo momento ci conviene liberare gli arenili... E siamo d'accordo. ...e portarli nel sito di stoccaggio. E siamo d'accordo. Basti pensare però che il sito di stoccaggio, per le quantità che teniamo sugli arenili, parliamo di circa 20.000 tonnellate. Parliamo di una montagna considerevole. 15.000, diciamo... Ragionabilmente 12.000 all'Itazzurro e il resto... Deve considerare il campo Lantolfi, che è 5.000 metri quadrati, 6.000 metri quadrati, per 3 metri di altezza. Ok. Io ho voluto dire questo perché è importante che è a contesto... Il piano, come le ho detto, ne abbiamo anche discusso, che è prima vagliatura, liberare le spiagge, utilizzare la stazione intermedia per il deposito della Posedonia e con il residuo che rimarrà, quello che sarà possibile sarà anche portato a smaltimento. Naturalmente è chiaro che l'obiettivo principale... Diamo priorità al stoccaggio. Eh certo, è normale. Fondamentale. Eh ma sarebbe assurdo, se no non porrono a libero la spiaggia, no? Prima liberare le spiagge. Stoccare il materiale. Una volta che ho liberato le spiagge, ho stoccato il materiale, i residui verranno utilizzati per avviare lo smaltimento. Va bene, grazie. Prego, Consigliere Petto. Sindaco, ma per così, come modi di verificare, con 500.000 euro, dove si vuole intervenire soprattutto? Al Lido Azzurro oppure alla... A tutte e due le aree. A tutte e due le aree. Quello che volevo dire, per il sito di stoccaggio si intende sempre vicino alla spiaggia oppure in un sito diverso? No, in un sito diverso. Quindi sono gente individuale. Allora, il problema che ci siamo posti, abbiamo discusso tante volte anche in Consiglio, la richiesta che viene dalla città, è liberare le spiagge. Quindi fare una soluzione non poteva essere più fare un ulteriore accumulo. Quindi l'obiettivo principale è liberare le spiagge. È chiaro che con questa cifra che abbiamo, liberare le spiagge e smaltire tutta la Poseidonia è una operazione impossibile, no? Quindi non ce la facciamo. Quindi l'obiettivo è liberare le spiagge. Quello che si riesce a smaltire, bene. Quello che non si riesce a smaltire rimane nel sito di stoccaggio e si provvederà poi nel tempo a smaltire quello che rimane nel sito di stoccaggio. È chiaro che tutto questo passaggio, come dire, passa comunque per una responsabilità del sindaco, perché poi è chiaro che creare un sito di stoccaggio significa delle responsabilità per chi firma le varie ordinanze, quindi la mia è solo la mia. Però io mi sento, diciamo, rispetto a questo atteso, tutto quello che ci siamo detti, diciamo di affrontare questo percorso, perché credo sia l'unico che possa liberare le spiagge per l'estate. Quindi saranno liberate le spiagge, allora sicuramente. Ci crediamo, quindi... L'unico dubbio che mi pongo, che diciamo purtroppo è innegabile, è che comunque ci sono delle procedure, insomma, da svolgere. Se la grada di appalto si blocca, cominciano i ricorsi, i ricorsi altari, quindi rischiamo di non farcela per l'estate. Questo è il problema. Io mi auguro, diciamo, che agendo positivamente, perché i tempi per farcela ce li abbiamo, ma è chiaro che se dovesse venire, diciamo, cose oggi impreviste e imprevedibili, potremmo anche non farcela. Però io oggi voglio pensare bene e avviare comunque il percorso. Io vi ricordate che c'è quell'altra richiesta, quella di un macchinario che potesse fare la suddivisione tra quello che è la sabbia e quello che è la vagliatura. Però qua c'è tutto di più. La vagliatura è questo. Vagliare. Vagliatura significa separare la sabbia. Sì. È chiaro che una prima vagliatura, allora io ho visto anche macchinari nuovi che mi hanno fatto vedere avveniristici, eccetera, però la mia idea è che una prima vagliatura sia comunque abbastanza grossolana. Poi vediamo come farla nella maniera migliore. Però credo che la rapidità dell'intervento collegato a una vagliatura, diciamo, dobbiamo valutare, insomma, questa cosa qua. Però aspettiamo che anche l'offerta del privato vediamo cosa propone per vagliare e separare sabbia dalla... Vediamo. Grazie. Prego, Ingegner. Volevo solo chiarire che io mi asterrò da questa delibera, però volevo chiarire chi mi ascolta, perché potrebbe essere intesa erroneamente, cioè io non è che mi astengo dall'avagliatura o dalla sistemazione della sabbia che stanno dicendo in questo momento, assolutamente no, io mi astengo da un voglio che riporto un piano biennale di acquisto, un voglio che riporta fornitura gasole, sistema barriere, fornitura gasole, a fine e poi all'ultimo. Quindi non conoscendo ciò che il sindaco ha in testa di fare, né conoscendo ciò che l'aggiunta può darsi che ha deciso di fare, quindi mi astengo per questo, ma non è che mi sto sostenendo dal problema della sabbia, mi sto sostenendo dal piano biennale, da questo fogliettino praticamente, perché questa è l'unica documentazione che noi consiglieri teniamo, dal piano biennale. Ci sono anche altri interventi? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio approva. Undicesimo punto all'ordine del giorno. Compenso collegio dei revisori dei conti, decreto interministeriale del 21-12-18, rettifica delibera numero 7 dell'8-2-2022, relazione all'assessore Mutali Parsi. Sì, in effetti qua bisogna prendere atto che nella delibera numero 7 dell'8 febbraio 2022, approvata da questo Consiglio Comunale, è stato commesso un errore, in quanto è stato deliberato un convenso al collegio dei revisori, quello precedente alla modifica intervenuta a dicembre del 2018. Ricordo a questo Consiglio che già con una delibera dell'ottobre 2019 al precedente collegio dei revisori fu adeguato il convenso sulla base della modifica dello stesso intervenuto in base a questo decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e che purtroppo nella prima stesura del deliberato, della scorsa deliberazione, fu commesso un errore in quanto fu riportato il convenso nella precedente versione. Quindi si chiede di riprendere atto di rettificare la precedente deliberazione e quindi di riprendere atto dell'esatto convenso aspettante al collegio stesso. E se ne chiede l'approvazione? Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Ci sono tutti. Votate, votate. Votate, sì. Chi si astiene? Abbate, Botticchio, Pesce, Bufano e Bufano. Favorevole pure Bufano. Chi è contrario? Astenuti. Chi rì. Abbate, Pesce e Botticchio. Sono ottenuti. Abbate. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Chi si astiene? Consiglio approfitto. Ultimo punto all'ordine del giorno, quello che abbiamo fatto slittare. Il decreto legislativo numero 50 2016 e due successive modifiche di integrazione. articolo 21, programma triennale 2022-2024, l'elenca annuale 2022 dei lavori pubblici. Approvazione. In relazione il Sindaco. Prego, Sindaco. Sì, scusate per prima, ma in realtà la delibera che in qualche modo è stata proposta io pensavo fosse stata modificata e invece non è stata modificata. Le variazioni del piano di internazionale riguardano non quattro opere pubbliche, ma cinque. Quindi si aggiunge al piano di internazionale con l'approvazione della delibera di giunto del progetto demolizione e ricostruzione in sito della vecchia scuola Landolfi per l'importo di 12 milioni e 400 mila euro. Poi, ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra dell'area sportiva all'aperto dell'istituto scolastico secondario primo grado Gino Rossivairo alla via Aldomoro, ex via Taverne per l'importo di 1 milione e 74 alle fine dell'insieme del programma triennale. Questa è la prima del libro, la seconda. La terza era realizzazione della palestra a servizio della scuola primaria dell'infanzia e località Carnetiello per l'importo di 1 milione e 182 e infine poi c'era liberazione della giunto comunale demolizione e ricostruzione in sito della scuola dell'infanzia 100 per l'importo di 3 milioni e 550 quindi questo erano le 1, 2, 3 4 opere ma io ne ricordavo 5 infatti c'è con delibera di giunta numero 78 del 16-3 2022 sempre a fine richiesta di finanziamento del piano nazionale di presa e resilienza miglioramento dell'efficienza energetica del cineteatro Edoardo De Filippo della città di Agropoli che per un importo di 250 mila euro quindi in realtà nella delibera diciamo la delibera di consiglio così come proposta è mancante di una ulteriore delibera che approvava un altro progetto da inserire nel pieno triennale quindi vi chiedo se è possibile prima fare una modifica della delibera di consiglio diciamo inserendo anche attesa la delibera di giunta che ho citato quest'altro lavoro pubblico di 250 mila euro per un impianto fotovoltaico sul cineteatro e poi successivamente di approvare l'integrazione non più di 4 ma di 5 opere pubbliche al piano triennale non so se non è stato chiaro se avete necessità di altri dettagli Sindaco se può citare la delibera di giunta l'opera di cui la delibera di giunta numero numero 78 del 16 3 2022 questa probabilmente essendo fatta è stata fatta il 16 in concomitanza con la preparazione della proposta di delibera di consiglio forse addirittura questa è venuta subito dopo probabilmente per questo non è stata non è stata recepita anche se io ero convinto di averlo detto all'ufficio ecco un attimo il momento di impasse di prima perché dico io mi ricordo di averglielo detto invece non è stata non è stata inserita quindi se possiamo inserirla che è utile inserire nel piano triennale anche questo però voi questa non l'avete non l'avete vista se volete un dettaglio sul tipo di intervento si tratta di un impianto fotovoltaico che naturalmente aiuterebbe il cineteatro per quel che riguarda il consumo dell'energia elettrica atteso che come sapete l'energia non vi devo dire i costi che sta incrementando e quindi potreste essere utile l'impianto per rendere il cineteatro più autosufficiente dal mondo di vista finanziario Cioè intervento il vicino Abate prego Allora indipendentemente da questa giunta che adesso ha detto il sindaco non la prendo in considerazione perché è un unico motivo quello di contestazione della delibera mistificare la realtà è un atto che generalmente i politici fanno in quest'aule invece avviene quasi con una ricorrenza lei ha detto prima sindaco la volontà di non collaborare una sua idea parte dal consigliere Abate io ho invitato a leggere gli atti e continuo a invitare a leggere gli atti in data 28 febbraio quindi quanti giorni fa 20 giorni fa con protocollo 6691 richiesto al comune di Agropoli indirizzata a lei e al segretario comunale copia del progetto definitivo per gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito della vecchia scuola elementare Gino Landolfi e comunque poi ho richiesto con integrazione l'1 marzo copia di tutti quanti i progetti e delle delibere di cui ai numeri 45, 46, 46 tutte quelle richiamate qua dentro avevo chiesto copia perché mi volevo documentare giustamente sapendo praticamente di un giorno esprimere un mio parere su questo ho chiesto copia a tutt'oggi non mi è arrivato niente quindi la volontà di non collaborare è stata documentata cioè è della maggioranza che non ha volontà di collaborare con l'ammirato tant'è vero che non mi manda manco i cart andiamo adesso alle delibere oggi io quindi sulla scorta di totale assenza di documentazione dovrei giudicare 18 milioni tranne i 250 giusti 18 milioni e 200 mila euro più i 250 mila euro sulla scorta praticamente di quello che sarà scritto qua dentro oppure di quello che compare in questo foglietto allegato che non si legge perché sono talmente tante le opere il libro dei sogni è talmente grosso per cui non voglio a te praticamente viene scritto piccolissimo con questo non è che voglio sfottare assolutamente perché semmai al limite se uno ci si mette con calma sul computer esce pure ingrandendo a capire qualcosa ma non più di tanto perché non si legge nemmeno ingrandendo quindi io dovrei esprimere parete favorevole a questa delibera che prevede praticamente l'uso dei fondi del PNR R perché si rifanno le scuole perché si aggiustano praticamente le palestre e quindi fidarmi di questa maggioranza perché ho chiesto le carte e non me l'hanno mandata siccome io non mi fido di questa maggioranza non posso esprimere questo parere positivo allora molto probabilmente mi piglierò le riflessioni dei cittadini che dicono e tu non hai espresso parere negativo hai espresso parere negativo a quello che poteva essere un uso del piano nazionale di resilienza e ripresa facendo perdere quindi secondo te dei fondi dovrei avere timore quindi ecco il trucco della maggioranza io ti metto davanti a una realtà poi se tu dici praticamente sì tanto ti guadagna se dici no ti pigli poi il parere contrario dei cittadini no lo sto dicendo io è un mio soliloquio così come ne fai tanti tu quindi in questo soliloquio vorrei continuare così come dici tu indisturbato quindi io dovrei esprimere questo parere praticamente diciamo negativo e lo esprimerò negativo ma lo esprimerò negativo anche per tante altre motivazioni perché pur non avendo avuto le carte e non le avute diciamo per una motivazione evidentemente non per una distrazione mi accorgo maggioranza rivolgendomi tutta la maggioranza per quanto riguarda il lavoro di demolizione e ricostruzione in sito ne ho pegliato uno solo in esame poi dopodiché fate quello che volete Gino Landolfi rilevo che nell'avviso che voi richiamate del piano nazionale è di conseguenza della delibera di regione Campania che emana l'avviso pubblico per la formazione della programmazione regionale investimento 3.3 quindi messa in sicurezza delle scuole sindaco all'articolo 4 glielo voglio solo ricordare ma lei ha i suoi uffici e si rifaccia solo ed esclusivamente i suoi uffici non pensi a me proposte e candidature finanziabili non finanziabili punto 3 si dice le proposte devono essere dimensionate in funzione del numero di alunni beneficiari dell'intervento nel rispetto degli indici standard di superfici previsti dal decreto poi condiviamo a proposito sindaco quante scuole a sua conoscenza ci sono nell'istituto che sto parlando cioè quante aule quanti alunni in totale secondo lei secondo sommariamente c'è il crispino che lo sa meglio mille alunni allora dice l'articolo che le proposte devono essere dimensionate così come in conformità al decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 75 sindaco 18 dicembre 75 un decreto in vigore l'avete chiesto pure a me quando avevamo fatto quella soluzione della si benissimo mi viene il dubbio quindi sindaco ma è stato verificato che l'intervento è stato dimensionato in funzione di questi alunni beneficiari punto interrogativo mi viene il dubbio punto 5 non sono ammessi a finanziamento gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici terminati dopo il 1995 o che presentino un indice di rischio sismico in periore a 08 o che possegono la classe energetica sindaco il nostro edificio mi sembra di ricordare ha ricevuto interventi dopo il 1900 finanziamenti dopo il 1995 io continuo nella lettura di ciò che ha scritto l'aggiunta di Luca e quindi il consiglio regionale non sono ammessi a finanziamento interventi parziali o relativi a lotti non funzionali o già finanziati con altre linee di finanziamento nazionali mi sembra di ricordare che recentemente questo fabbricato ha avuto altre linee di finanziamento per non parlare poi sindaco di quanto previsto all'articolo 5 dove dice criteri di ammissibilità e qua metteteci un po' di attenzione visiva subito perché ve ne accorgete inoltre le proposte progettuali devono possedere tutti i requisiti devono possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e inoltre le dimensioni dell'area disponibile devono essere conforme a quelle previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 75 mi viene un atroce dubbio sa perché sindaco con la tabella numero 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 75 per esempio perciò ho chiesto prima a Trispino per esempio con 10 classi elementari 10 classi elementari quindi significa 250 alunni in realtà occorrerebbe un'area di 5.670 metri quadrati per far sì che l'intervento risulti conforme alla normativa con 20 classi elementari quindi la metà di quelle che ci stanno qua che ci stanno evidentemente da quarantina per essere mille alunni ci vogliono praticamente 10.260 metri quadrati l'area la teniamo qua che stare è 4.800 5.000 metri quadrati quindi nettamente sindaco potrassi che rischiate di molto io vi ho solo avvisato tanto io non approverò la verità però attenzione perché questa richiesta di fondi in questo modo potrebbe essere poi elusa nella verifica finale e aver perso praticamente tutto oppure addirittura perderlo nel momento in cui si fa in esecuzione potrassi che mi sia sbagliato perché ho visto solo e soltanto una delibera una proposta dell'aggiunta della regione Campania grazie per l'attenzione sembra io consigliere la vostra ingegnera Bate prima lei ricordava la mia presenza in questa amministrazione coppola e solo da poco tempo, dal 30 di dicembre, sono andato via. Stasera voglio ribadire con chiarezza a lei e a tutti gli amici qui presenti e ai cittadini che ci ascoltano da casa. Una delle motivazioni che mi hanno indotto dopo ripetute sollecitazioni, consigli, incontri con il sindaco e con gli amici che erano presenti era proprio quella mancanza di programmazione, di pianificazione che questa città, come si vince, io sono riuscito ad ingrandire le 43 opere pubbliche, perché gli uffici ci sottopongono anche da lenti di ingrandimento le opere pubbliche. Opere che, mi dispiace dirle agli amici consiglieri, non ne siete a conoscenza. O meglio, decise da pochi in modalità sbagliate, sia in riferimento ai bandi che vengono emessi e vengono puntualmente disattesi nei punti che riportava l'ingegnere consigliere Abbate, perché manca quella struttura, caro sindaco, che lei sa bene. Da anni che mi sono battuto e vi ho pregato di fare, perché non si può vedere un piano di opere pubbliche di 144 milioni di euro e questi 144 milioni sono progetti che tutto si può dire al di là della parola esecutivo. Lei lo sa bene, come forse nessuno sa qui, perché lei, ingegnere, parlava del progetto dell'Alandolfi. Il progetto dell'Alandolfi è stato bocciato, è stato già esaminato dalla cabina di regia, lo sa, sindaco, perché lei ha fatto un post dove finalmente, grazie ai fondi del piano nazionale di silenzio e rilancio, la nostra scuola sarà ristrutturata. Viva Dio che non è stato finanziato! Mi prendo tutta la responsabilità. Non si può nel 2022 rifare la stessa struttura senza rispettare gli standard. Queste sono cose che ne abbiamo parlate milioni di volte. si continuano a fare errori madornali. La prego, istituisca in questi pochi mesi ancora di mandato quella struttura tecnica che non sono i sopporti che vengono dati ai due uffici urbanistiche e lavori pubblici, una struttura tecnica capace di fare i progetti, se non altrimenti continuiamo a fare errori. rifletta bene, perché è una programmazione 2022-2024 in questo modo, con la possibilità di prendere fondi, continuiamo a ringorrere l'intervento del centro. Vedo il consigliere Di Biasi delegato ai lavori pubblici. Ne conosci i contenuti di questo piano, consigliere? Le ha visti, le conosce, le conosce che non è stato approvato i 12 milioni. Ma non siamo un interrogatorio, consigliere Rapporto. Faccia la sua dichiarazione e poi un altro fa un'altra cosa. Non lei fa l'interrogatorio, consigliere Rapporto. Vuoi sapere questo, vuoi fare quello. Faccia il suo intervento, poi se il consigliere Di Biasi ritiene, e riplicherà il suo intervento. Che è il interrogatorio? Non si arrabbia. Eh no, è l'atteggiamento sbagliato. È sempre sbagliato, perché dico la verità, i dati sono questi. Continuiamo a fare il libro dei sogni e non avere una visione di quella che deve essere la città di Agropoli. In nostro parere, ci prendiamo tutta la responsabilità, votiamo contro a questo tipo di piano. Ci sono altri interventi? Dobbiamo passare le votazioni. Prego, Sim. Sarò molto breve nella replica. La sostanza dell'intervento del consigliere Abbate è che non avendo avuto la possibilità di guardare i progetti non può dare il suo giudizio. E quindi, conseguentemente, ha chiesto al Comune di mandargli le carte, noi gliele abbiamo mandate e quindi il nostro atteggiamento è di non farlo partecipare. Questa è una lettura dei fatti. Come lei ha fatto, che se l'è cantata e se l'è suonata, anche io ora me la canto e me la suono. Io ho un'altra lettura dei fatti. Un progetto esecutivo di quelle di pensione, a tavole, non lo devo dire io, l'ingegnere Abbate lo sa meglio di me, tavole e tavole di progettazione. E anche nel supporto informatico in Pialda non è banale. Io non so perché l'ufficio non si è messo in contatto con lei, perché io l'ho comunicato all'ufficio che aveva chiesto queste carte, ma consultare un progetto di quel tipo significa spendere non so quanti soldi soltanto di copie. No? Perché sa quando un progetto esecutivo di 12 milioni euro quanti tavole ha? Forse Losello sa meglio di me. Benissimo. Quindi chiederci, ma non mi hanno mandato le carte a casa? Come dire, è un evidente modo per non voler partecipare alla discussione. Perché la distanza dal suo studio al comune è tale da farsi una passeggiata. se c'era la vera volontà di consultare il progetto si veniva nel comune, si aprivano le carte e si leggevano. E a quel punto poteva consultare. Quindi la sua lettura è che io non gli ho mandato le carte e per questo motivo non voglio collaborare con lei e quindi la maggioranza si arroga la voglia, la determinazione di non partecipare all'opposizione. Questa è la sua lettura. La mia lettura è che lei non aveva nessun interesse a dare un contributo al progetto perché se l'avesse avuto, come lei ha detto, ma non aveva in carta a casa, si alzava, veniva al comune, guardava il progetto e poteva dare realmente un contributo. Invece lei il contributo non lo vuole dare. L'interesse è soltanto fare polemica. Questo diciamo per quel che dice il consigliere, per replicare ciò che ha detto il consigliere D'Abbato. Quindi due letture diverse poi i cittadini ci udicheranno qual è quella corretta. Se è la nostra che non gli diamo le carte o se è la sua che poteva benissimo venire a vedere in comune nessuno glielo impediva di venire a controllare. Gli uffici sono aperti come sa continuamente e a sua disposizione per qualunque possibilità di verificare ogni atto. Quindi smettiamo con stasso la mano ma do le carte a casa. Se c'è la volontà si può determinare anche diversamente. Quindi quel che diciamo la polemica con il consigliere Rapport è chiaro che se abbiamo scelto dei percorsi diciamo comuni attesa la stima in ogni caso reciproca penso ci sono delle visioni diverse certamente. È certo che ora passare all'opposizione è semplice che si passa dalla necessità di concretizzare un intervento e un progetto alla possibilità di viaggiare liberi e dire questa cosa non si poteva fare certo. Si poteva fare un ufficio con dieci persone si poteva però il bilancio non ce l'ha considerato lo sa benissimo. Abbiamo avviato un piano di assunzioni per la prima volta nel Comune d'Agropoli ma nessuno ha fatto assunzioni noi le abbiamo avviate noi sono fermate per il Covid e riprenderanno ora le possibilità da parte dei città di partecipare per la prima volta a quattro bandi di assunzioni per personale di Cotecoria D tecnico dove sarà finalmente possibile implementare l'ufficio con nuove figure tecniche di Cotecoria D e altri bandi per l'assunzione di personale perché mai è stata la nostra fatta invece noi l'abbiamo fatto per il Comune d'Agropoli e quando accederanno queste nuove figure tecniche e si potrà implementare gli uffici di tutto questo che lei dice è chiaro che il lavoro verrà fatto meglio verrà fatto più organizzato ma tant'è noi non potevamo aspettare il pieno di regale e quindi lavoriamo con le forze che abbiamo mettendoci tutto l'impegno possibile giorno e notte se necessario e con le forze che abbiamo faremo tutto quello che ci sarà possibile fare nel famoso libro dei sogni chi sta all'appunto può dire perché non avete fatto dieci commissioni non avete fatto dieci non avete fatto dieci tecnici venditecnici non c'era la possibilità dal punto di vista finanziario di poterla avere abbiamo lavorato con la forza degli uffici e con la determinazione di noi amministratori è vero sì e possiamo anche sbagliare probabilmente se c'è stato un errore sulla compilazione del primo progetto ci saranno altri i bandi su cui si stanno a partecipare correggeremo e ricandideremo il progetto ma certamente non ci arrenderemo il fatto che siamo pochi l'ufficio non è stato possibile implementare non vuol dire che ci fermeremo continueremo con grande eliminazione e porteremo a caso tutto ciò che diciamo sarà possibile per quel che ci riguarda questo è l'impegno che ci stiamo mettendo e che ci mettiamo e che ci metteremo anche per il futuro è doveroso veramente mi rendo conto che non sono capito è colpa mia sicuramente cioè lei continua ad essere convinto nel 2022 di fare una struttura scolastica che non ci sono i metri quadri glielo spiegava l'ingegnere Abate per gli standard che la norma del 75 e lei sa bene c'ha figli come me che vanno a scuola non possiamo continuare a fare una didattica proprio all'indomani della pandemia nelle stesse dimensioni che qualcuno decide l'ufficio tecnico ha deciso di fare lo stesso incubatore e non immaginare di delocalizzare altrove la struttura e non mi dica vedi l'anticipo e non mi dica che il bando non lo prevedeva ok perché si pianifica prima invece di pensare altro si danno le priorità il bando non lo prevedeva e si sbaglia lei fa confusione tra il bando bravissimo ma caro sindaco questo è il problema suo il punto 5 dell'ammissibilità lo prevede il ministero dell'istruzione che è lo stesso bando del piano nazionale silenzio e rilancio gli uffici non l'hanno letto hanno letto solo quello regionale se lo fate a vedere ma con questo quando ci sono le motivazioni voglio integrare con questo non è che io personalmente poi non so Massimo ce la stiamo pigliando con gli uffici assolutamente no lungi da me da lui evidentemente a pigliarcelo con gli uffici noi non scarichiamo praticamente noi stiamo dicendo qual è il tipo praticamente di attenzione che si dovrebbe porre lui lo sta ponendo sotto un punto di vista io sotto un altro quando lei dice al pubblico che ascolta vieni qua e vieni a vedere ma te vissa crede che io sono pataterno io magio studiaico per potermele studiare ho bisogno praticamente di lavorare cioè mi sai vedere la documentazione mi metto all'otturio mi guardo e poi vengo a darvi i consigli questo è quello che io dentro riferisco ma tu invece vuoi far credere praticamente tutt'altro i cittadini però ascoltano e vanno grazie passiamo alle votazioni dobbiamo fare una doppia votazione per integrare il punto sindaco chi è favorevole alla proposta del sindaco di integrare il punto numero 7 ultimo l'ordine del gianto di cui è la giunta comunale numero 78 del 16 3 2022 chi è favorevole la proposta con il inserimento della delibera dell'opera di cui è la delibera di giunta comunale del 68 del 16 2022 chi è favorevole chi è contrario chi si astiene per l'immediata eseguibilità chi è favorevole chi è contrario adesso possiamo votare la proposta chi è favorevole la proposta così come modificata dal sindaco chi è favorevole chi è contrario chi si astiene tutti e quattro botticcio abbate bufano la porta per l'immediata eseguibilità chi è favorevole chi è contrario alle 21.05 i lavori sono conclusi buona serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.